va dai il control dai proviamo contro oppure beh dipende che dove va c'è un carrellino forse troppo vai vai a cucina allora ovviamente niente contro se non c'è il carrello ah ok contro contro si si vabbè ovvio se non c'è il carrello o se no potresti anche farlo se c'è il carrello sulla nave bravo bravo stavo per te lo io c'è un esagente elicottero giustamente che mi stavo a prendere hanno sparato sul cadavere zio no good no good non si fa non si fa perché uno poi vi deve prendere si deve incazzare no good forse non ti do passi ci sono le mani i mani i mani i mani i perisic ora è da qui da me perisic se è l'ex giocatore c'è uno sotto ragazzi ho appena chillato questo è schifo, questo è schifo io ero russo sono YBJKD4000 mi ricordo che eri nella lobby della privata buonasera gioia, buonasera caro buonasera padre, call a Lebron grazie mille Francesco, buonasera, Lebron James è qui grazie mille Francesco, buonasera, vediamo più po' è, tu puoi peggio di Pirotani eh, purtroppo sì ma mo' perchè sto un attimo con le mani sul coso no, ma mi mutavo perchè c'ho il muto io ok ok si 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 anzi mi muto un attimo allora, eeeh ok ci sono tararara, tararara ma non siamo ancora intorno allo so, ci sta un attimo una Una pubblica mentre ci evitano Non va buono Ma no Che cazzo ne so Ho fatto gli esercizi per quello L'ho ancora sparato sto game Eh niente è rimasto vivo Come ci pensa Oh ragazzi sono il 32 Eh ma vedi un attimo ci hanno invitato Eh ma se non sanno che invitare No ma basta scrivere Ma guarda che sul discord loro ci si unisce Stesso da lì volendo Ci hanno invitato io vado dai In update Sta scritto unicili Se vai da discord Ah è vero è vero Allora dove metterla Eh fea Vedevo spiegare tutto Vedevo spiegare Però che squadra siamo 10 sono da l'altro La skin non va bene 9 9 dico Questa skin non va bene 9 io vedo 10 Sì io vedo 10 Io vedo 9 Scusa Vedi Aspetta un attimo Io vedo il numero 9 di fianco al Al nome nostro Ah l'hanno cambiato Fra era 10 L'hanno cambiato L'hanno cambiato 9 occupata Ok no Ok sono messo su 9 Allora Prima di tutto Vedo un vitaio Da discord loro non riuscite Che vi entra sicuro da lì Vabbè v'ho invitato V'ho invitato Perché non mi facevo invitare V'ho invitato Allora Buonasera bamba Io devo fare un attimo una cosa ragazzuoli Devo prendere la telecamera Come al solito Metterla qua davanti a me Dove sicuramente mi romperà le scatole Perché mi romperà le scatole Però E Dal One moment Because Shish Fammi vedere se è questo E' palle La devo spaccare Di attaccare Possibile sia questa No Ma le cazzo è il Il cavo di questo Ecco Ma non va Ma non va Guarda che c'è un problema Ah ok Aspetta l'ho trovata Allora Ecco qua Yes Ok c'è il monitor A sinistra Signori La cam monitor La cam monitor Because Because Shish Perché Capito nel torneo Sì Adesso Sta Stiamo entrando Nella prima Partita del torneo Infatti stiamo attaccando Ragazzi Stiamo attaccando La monitor cam Tutto Sì torneo Fabrizio Quindi stiamo attaccando Un po' di roba Mi pare Non mi ricordo più Che cosa dovevo fare Comunque nel frattempo Allora Fatemi vedere se ho chiuso tutto Sì Ho chiuso Google Chrome Whatsapp E compagnia bella Gestio un'attività Così nel caso Dovessero rompere le scatole Comunque Bla 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 C'è sempre Tutto qui Sarveto Tutto qui Sarveto Ok Ok ciao Ehm E' impazzita la webcam Bro Uuuu Mannaggia Mamma mia Che fa Fa un po' ribrezzo Sta webcam Ok Diciamo che si è ripresa Allora Non vi sento più ragazzi Ci siete? Raga? Sì ci sono Tu mi senti? Io te Sì Tu ma sì 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 ti sento Mannaggia c'è la webcam Che impazzita fra prima va poi non va La skin quella con l'emoji la si può usare Ah merda devo cambiare la skins La skin dovete cambiare Raga rozzo Rozzo quella lì non va bene Cambiate la skin Cambiate la skin Poi serpentino da loadout non vale Vale solo quello lì da terra Io devo fare una cosa Però ho dimenticato che qua Bisognava mettere Grazie sir Grazie mille Pericolato Andiamo a te recupero rapido Mi pare che tengo Spericolato Altre cose bannate Una veloce carrellata dei bann Eh le solite cose zio Silenzio 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 Ricognitore Penso da battaglia No però non ho letto Ricognitore da battaglia Bannato lo sai No no Elicottro comunque Elicottro Juggernaut Vai 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 Mandagli Mandagli tutto zio Zio Ok In teoria qua tutto pronto Qua ci siamo Che ha startato Si Ha startato Ha startato Ok in teoria C'è qualcosa che fa Rumore nelle mie cuffie Un ronzio Sarà che prende Eh si Stavo prendendo Incredibile Stavo prendendo Che sta succedendo Aspettate un attimo Raga che Ah Sta cazzo Di telecamera Come funziona raga Quanti game sono Sei game Si scartano Quanti Sei Sei Scarta uno Ok Bella Ropino Si si estimerà Spero Prima o poi Si sistemerà I donno Speriamo Ecco qui qua Si 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 ma io sono Trovivo i giochi Torneggi Spesso Allora buonasera Michele Bella No è torneo Torneo Andone è torneo Control Potrebbe essere contestato Visto che ci passano Sotto la La safe Però io ci andrei Eh vabbè Ma se fai così Allora Tutte sono contestate Io Atterro sul ponticello E vado a destra Eh Dovevo Atterra tutte e tre Insieme però Eh si 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 Ponticello Poi subito a destra Buonasera Carmine Buonasera Andrea E cura contestata Dai Eh vabbè Ma se entriamo Tutte e tre Insieme Io direi di andare Nella casa piccola No dove scendete No no Ponticello Casa grossa Ah dal ponte Ti infili sul ponte Ponte Devi proprio Atterrare sul ponte Non è facile Marco 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 FFA Ma che cazzo Ci fai Attuale Un altro L'ho Atterrato sopra Eh Occhio C'ho il bomb Lo tiro Lo tiro Così lo faccio scendere Sarvo ancora Atterraga Si si ma è una Tieni Tieni Sì Ehm E' sotto E' sotto il ponte Scendiamo tutti insieme Piano piano qua Dalla parte grossa Da lupo Dalla parte grossa Vieni vieni Io non ho Mitragliata Io ho solo un assalto Con 26 colpi Vai vai Pusciamo Pusciamo E' sopra 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 Tony A terra A terra Freddy C'è uno dietro al camion Dietro al mio camion Lo pusho io Tu come capri Mi è Craccato Craccato One shotissimo Perché mi ha fatto A terra Razza A terra Razza Abbiamo il lodi Raga Abbiamo il lodi Dai Lo facciamolo subito Bravi bravi raga Tutti belli uniti Il lodi Io non lo prendo Se il giro Prendetelo voi Abbiamo il regain Così Sicuro che non lo vuoi prendere Tieni No scusa ho sbagliato Non lo prendo io Non lo prendo io Luca Ok Chi è che fa regain? Chi è che sta un pochino dietro? Come volete Se volete lo faccio io Oh è entrato Ci ha pushato uno Qua la porta Uno che fa il giro con me È salito sopra È salito sopra Sulla scavita Vieni salite salite Saliamo un attimo Anche perché non sappiamo quanti sopra Qua fare Qua fare Qua fare Sto arrivando Noi arriviamo dalla parte grande Vendo da voi Vendo da voi Vendo da voi Scusate C'è sopra C'è entrato sotto C'è entrato sotto Il nuovo Hittato Sono gli spagnoli Sì 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 Mi sta pushando Sto giocando Di venire da voi È entrato da me È entrato da me Mi ha messo Qua da me Qua da me Tony Vieni al mio piano È one È one sotto È sotto Lugo Non lo vedo di qua Bravi Sopra Sopra È un fantasma Tutti dentro Tutti dentro Sono dalla parte grande Io Anch'io Anch'io sto arrivando Piastre Piastre Non c'è le piastre Le compri Le compro Copri Copri Ma tolto di mezzo Cam Sì 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 Adesso Aspetta Fai compri Piastre Entrato 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 Qua scioltissimo Terra 1 Terra 1 Tony push Push Pusce sopra Mi ha autoresso Mi ha autoresso Le piastre qualcuno Le può riesce a comprare Hanno fatto il lancio Alla casa piccola Qui pieno Qui pieno Qui pieno Due piastre lì Tieni Bro Bro Hanno fatto il lancio Alla casa piccola Quella lì Di fronte prison Adesso prendo avvia Vediamo Eh no Te lo dico già io Le ho viste Ho viste con il lancio Ok ok Prendo avvia Raga Ok Ci push Uno sopra E due carri Oh Sopra 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 Eh ne ho buscato Sì 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 No merda Siamo vicini Siamo vicini Non sta sotto Eh no Vai via Vai via Vai via Eh Che c'è Se non Non so se riesco ad andare Audio un attimo Prova Prova C'è solo V No ma ho busciato Eh ho viste Devo torna dentro Sì 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 Torna dentro Tre secondi Bravo 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 Non tornate qua A questo punto Basta 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 Uscano tutti contro Ad ora Io provo Andare Allora Ho fatto gli arie Oh C'è un team Stai in aria 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 Ehi uno qui Eh lo so Bro Ande Vengo da te Cosa vuoi che faccia Sì 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 Prendi Quanti ne sono rimasti sopra Tony Uno Bene Riesci a prenderlo No Non agganciare così Che ci servono i secondi Minchia raga Comunque C'è sta tutti C'è stanchi C'è Marco E' bello tosto Stasera Il torneo Bello tosto Stanno tutti Sono in volo io Non si può andare sul lancio Bro Stanno sopra il lancio L'hanno appena ammazzato N'altro Tony Non andare sul lancio No 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 Control pure Stanno ancora bro Però forse si può provare Adesso Provo control bro io Eh io push allora Attento perché io potrei morire Allora aspetta un po' Guarda me Eh va bene Due In due su di me Occhio raga Sono morto Lo pone uno sopra Non so Dobbiamo fare altre Un po' Adi un attimo Adi un attimo Adi un attimo La terra Dampax La terra Mi piace Let's go baby Sto arrivando Andiamo da lui Vai da lui No no Mi sono meccato Gigi No Cans Un altro team Terra uno Merda La due due Tra due Bravo bravo Bono 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 Bravo cazzo Bravo Tony Porca puttana Let's go baby Così così raga Posizionamento Abbiamo un po' di kill Ci siamo Dobbiamo solo posizionarci bene adesso Poi gli ultimi kill Arrivano da sole Bravo bravo Sì Marco Esatto Esatto Bellissima giocata Gigi Tattato Tattac Proviamo Andiamo dal tunnel Lupo Che non voglio Un è sceso Qui Dietro eh Calma 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 Bro Mettiamoci un attimo Aspetta un attimo Aspetta vediamo dove chiude Ci muoviamo Chi è che ha attivato il radar Non io Guarda me Uno è sceso Uno è sceso alle tende Vanno killati Eh cazzo mi ha fatto Uno è guante No No Eh tengo Vai via Vai via No Cazzo però Audio Questi muove Vengono a pusha sopra Sicuro Forse Non è detto Forse no No La cosa spari sul cadavere Sto spagnolo cretino Dai va bene Va bene 13 kg Va bene Eeeh Dovamo fare il giocale di posizionamento Ci siamo Ma poi sempre qua Sono venuti Sti cazzo dei spagnoli Ah abbiamo Nell'ordine Sali dietro Perché erano appena suonati Non so quante volte L'abbiamo killati E ancora tutti vivi Ah si Dai dai Buono raga Va bene Adesso Faremo meglio Adesso Mi hai dato tu le foto Sì sì Eh però là ci siamo divisi Bra Non dobbiamo stare mai Stavamo tutti uno uno e uno Ci han fatto a uno uno Tony quando è così Bro Ti vai da lupo Non andare da me Ok Quando muore Quando muore uno di noi Anche quando mi vedi Quando mi vedi Che mi hittano Con le piastre Che mi stanno togliendo Zio vai subito dal lupo Io se ho bisogno di tanto Questo qua Degli spagnoli Di solito Se giocano tornei Molto Cioè internazionali Beh tornei grossi Se giocano Anche dei mille Due mila Tre mila euro Se c'è gente forte Questa qua Però l'avevamo killati Non so quante volte L'avevamo veramente killati Un sacco di volte La control Polizio pera Sono tornati Un'altra volta A farci Una sera Francesco Allora Filippo Ti dirò A volte no E a volte si Dipende Dipende Ieri no Ieri no Per esempio Ieri ho giocato senza Diciamo che nel weekend Le lobby diventano impossibili Quindi Oppure quando devi fare i record Per forza quella devi usare Ma adesso siamo in torneo Bella Luca Buonasera Buonasera ragazzi Siamo in torneo Si sono presi già la posizione Guarda là Chiudeva pure qua Anzi io da control Noi eravamo perfetti Eravamo perfetti Posizione no Ottavi Che siamo arrivati Ottavi Ottavi Sì Questa è rimasto ancora I don't know Ma clones chi è? Non lo so Brody sinceramente Non l'ho mai sentito Manco io Non ho visto Di solito Nel torneo i clones Eh Questo è un buon positioning Ma si sono Si sono messi Contro tutti quanti Devo capire Non è stato Cams Ma uno di Di questi due cretini Mi ha sparato sul cadavere Ma sì Luca Sono Cioè Venga È fatto Ha fatto clone Eh ma moving Non loro purtroppo Se noi arriviamo alla fine Facciamo Qualcosa sotto delle stelle In che senso Il coso sotto delle stelle Dovamo morire lì No l'ho tolto un attimo Perché siamo in torneo L'ho tolto Perché siamo in torneo Altri spagnoli Canstaci Ma che Ma che è Il torneo degli spagnoli Zio Ah che stiamo Nel torneo degli spagnoli Bro Siamo arrivati a Barcellona Eh prendi gli schiaffi No no Questo è Ah no Farà Eccoli Perché mi dispiare È rimasto in vita Eh ma Mi sa che l'hanno killato Alle spalle Ma l'ha killato L'altro spagnolo Uno più uno più Sono rimasti Sì C'è ancora Gams Bro Ma cazzo è possibile Eh l'hanno restato Eh ma sta senza nulla Fra Però dipende Perché comunque Se c'ha le Cioè se rimane qua sopra Gli altri sono sotto Rimane Cioè comunque Potrebbe prendere La seconda posizione Che non è male Che hanno le kill Che c***o Bruano sopra Eh infatti Eccolo qua Ah va Ho trovato pure il Marco Zio Ma vince lui Potrebbe vincerla Ci sta Non lo so Quello sotto mi sembrava fara Non lo so Secondo me lo può fare Tanto Deve arrivare lui Lui L'altro Cioè lui è fermo In posizione Lo sto aspettando Che arriva Mo lo killa Zio Lo killa le spalle Sta cerca Vedi che non Non si fa Non si fa Sentire i passi Eh peccato Ha girato Eh ha perso Ha perso L'attimo Ha perso Non ha più piastre Ha perso Ha perso L'attimo L'altro si è piastrato Peccato Ma sennò avrebbe vinto Se non gli scappava Lì l'aveva fatto Eh niente Riega Oh Che mi devi fare Buona sera E allora Signore Prima partita È andata Sì sì C'è il game di scarto Cioè c'è Stasera c'è Stasera c'è il game di scarto Io non l'avevo visto Tutti i team Allora abbiamo Freddy, Razz Eccetera Che abbiamo chiamato prima C'è Marco FFA Che c'è Eccetera Frega Pre No Ma c'è anche Predator Crazy Quando sono arrivati Loro Non ho visto Eh non ho Aspetta Aspetta Ma io lo devo dire Aspetta Loro chi Crazy No sono stati I primi Tipo Pronto 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 GG Pronto Anche Anche le kill Anche le kill Luchino Tutto Luchino Le kill Il posizionamento Cioè il posizionamento Le kill non stavamo andando affatto male Di kill raga Eh Perché Siamo arrivati a finire Se avremmo fatto almeno Niente Signore c'è anche Predator Contro nel torneo Infatti io ho scritto adesso Ho detto Oh ma che cavolo ci fai Nel mio torneo contro Ma che ci fai Nel mio torneo contro Ma sei un pdf Sei Comunque Zio Perone Da discord Non mi fa unire Comunque A me si fra Mi fa unire Ad update Coso Compagnia bella Bella Bruno Bella Fabrizio Ora sei ragazzi Sono la prima partita andata Diciamo che come prima Non male Poi Si ci può stare Si può stare Se può migliorare Dobbiamo migliorare il fatto Zio Che là ci siamo persi Un attimino Fra Eravamo impegnati A famo famo uavimo Andiamo da qua Ci siamo un attimo Divisi La nostra squadra è la 9? Si Si Non l'hanno Non l'hanno messo su discord Bro Non l'hanno messo su discord Io sono andato in lobby recente Esti sport Partecipa alla partita Ah Ah proprio così Zio Ah buffo Cattivo Ah buffo C'è anche Predator Per mo mi deve spiegare Che ci fa Predator Che ci fa Predator Ok mi ha invitato GG Adesso arrivo C'è cosa ci fa Predator contro? Ma se lo becco il lobby Zio Se lo becco contro Predator Eccomi qua No 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 Sono a pagamento Allora Quindi è coi Raven È col team dei Raven Praticamente Per forza Fai vedere Che c'è dei Raven Eh Doha Predator Che è un amico mio Era del mio vecchio team E poi non ho E dammi Ah dammi Ok E dammi 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 tutto Dammelo tutto È già iniziato Simone È già iniziato Abbiamo fatto già una partita E Eccolo là Guarda 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 dove sta Allora Assolutamente Gli devo mandare la foto Tanto la vedrà dopo Perché muo Intorno Quindi Aspetta che Allora Detto ciò Cosa è successo Qua allora C'è sta il team Dov'è il team degli spagnoli Raga Fatemi vedere Just MC Cosa Questi non li conosco Raga Ma manco questi Torga Guns Un altro spagnolo Sicuramente Clones Sì Fu mai visti Ah Guns Squadra 3 Ok Gli altri spagnoli Sono squadra 3 Panico Come è andata Eh Abbiamo fatto 13 kill La prima partita Peccato Stava girando bene Poi siamo morti Per un errore Siamo morti per un errore La prima partita Avevamo 13 kill Ed era ancora Il secondo Il terzo giro Quindi c'era ancora Tutto da giocare C'erano ancora C'erano ancora Sette Vedi Eh Quando eravamo a control Eh Ce ne dovevamo andare Subito Subito Quando ho detto Andiamo sotto nel tunnel Di prison Andavamo lì Avevamo Cassa di muni Avevo Siringhe E via Potevano stare lì Tre ore Scusa Mi ero mutato Hai ragione Hai ragione Nel senso Magari poi Li potevamo moldare Da lì In head glitch Mentre arrivavamo In open Da quanto Capito Poi si vedeva Cosa succedeva No 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 Hai ragione Pensandoci Adesso si Hai ragione Hai ragione Allora Ehm Pare che siamo Quanti siamo No 12 team siamo Quindi manca la squadra 6 Eh a quanto pare si Presidente Presidente No c'è anche la squadra 13 Bro No no C'è anche la 13 A quanto pare Penso ci sia anche la 13 Ma squadra 6 chi è I don't know bro Vabbè Aspettiamo Perché ci stanno Mettendo così tanto Ah quindi Quelli di là Stanno facendo Un'altra Un altro torneo Ma non ho capito Ci doveva stare Anche il team Li ho visti Oh chi lo sa Ah c'è white con diablo Ehm Fanno vedere Oh Lore Grazie per la sub Grazie per la sub Benvenuto Grazie per la sub Buonasera Pietro Come procede Abbiamo fatto una Una partita Allora Il mio team Sì siamo tutti i pc Ma la maggior parte Di tutti i giocatori Intorno su un pc Guarda qua Io non c'è un console player Squadra 2 Tutti i pc Squadra 3 Tutti i pc Squadra 5 Tutti i pc Squadra 4 Tutti i pc Squadra 7 Tutti i pc Squadra 8 Tutti i pc Squadra mia Tutti i pc Squadra 12 Tutti i pc Squadra 11 Tutti i pc Squadra 10 Tutti i pc Squadra 13 Due pc E una E una play Raga Su 35 persone Una sola console Tutti i pc player Wow fantastico Ah no era pure un infiltrato Scherzavo non c'è neanche un console player Ho detto una stronzata Non era del torneo quello l'hanno buttato fuori E squadra 13 e anche computer Signore non c'è una console Tutti i pc player Non c'è una console Eh signori Che vi devo dire Beh bello GG Ho capito loro che torneo stanno giocando Invece quindi non giocavano quello degli est Che cazzo di torneo giocavano stasera In un altro torneo Hanno saltato ma manca qualcuno Mi sa squadra 6 è vuota O sbaglio Magari qualcuno Mi sa che era Sì mi sa che era vuota anche prima Ah boh non ci ho fatto Cazzo ma che è I don't know bro I don't know Ma nemmeno io Ah loro lo so ma fa un altro tipo di torneo Loro Ok Mi sa che prendo l'orneo Faccio un pisc La faccio vedere adesso La differenza è immensa La differenza è immensa Tutto È proprio un altro tipo di gioco Da pc è proprio un altro tipo di gioco Non ha niente a che vedere con quello sulla console Molto più fluido Grafica tutto Più fps Tutto Tutto Io c'ho Regà 2.27 la mappa grande 2.07 Rebirth Poi il settimanale l'avevo portato anche a 3.50 In realtà Però vabbè Dipende Ci sono Ci sono momenti in cui Sto più in forma Altri che sto meno in forma Bella Lorenzo Buonasera No non è vero che c'è meno re in culo bro Ma è vero Io potrei Vabbè Dopo vedo Meno re in culo se giochi mouse stasera Se giochi pad no è la stessa cosa Penso che è ancora contestato raga Come prima Penso di sì Però andiamo sempre lì Sì 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 contestato C'è arrivato Due sopra Due sopra di noi VV Tolge l'arma Grado Si sta autoressando il mio Si sta autoressando Gravi C'è che ci arriva da dietro Non ho piastre Non ho piastre C'è uno che fa il giro dietro Io ce le ho Uno sopra il tetto Un altro V Dobbiamo Pusciamoli in tre Pusciamoli in tre questo sul tetto Sennò Aspetta Aspetta Mi sto piastrando Vai 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 ora Un lupo Tre due uno vai No Dietro di me Con la pistola Grazie Una tende L'ultima è sotto Potremmo wipearlo Lo dobbiamo wipeare Andiamo dai Andiamo 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 Io faccio la piccola One shot one shot One shot Eh non si è wipeato però Sotto una tira Eh fa niente Vabbè dai Brava brava Altri arrivano Arriva il toni Mi sa che devi Sta arrivando Sta arrivando sul tetto bro Sta arrivando sul tetto Faccelo Faccelo Aspetta No Stanno fai tanto Stanno fai tanto No sta fai tanto Come sta fai tanto Aspetta aspetta No no Vai via Dovevi capare Subito 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 E' veri con me No No Palle però raga Dai 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 Eh cambia Aspetto in volo Ma non possiamo Tornare lì Fra Ah no Così quasi ci torno io Per prendere qualche kill Raga Andate È arrivato un altro team È arrivato È arrivato un altro team Eh per quello Che per quello Volevo andare io Andate Provate a fare qualche loot In una zona abbastanza safe Sennò sulla nave Si può provare a loot C'è il carrello No La nave questa no Brody Perché no Hanno una posizione alta poi Hanno una posizione alta Eh ho carito Ma solo per prendere i soldi E fare qualcosa Che facciamo Provo chemical Io provo con lui Dai Andate andate Anzi no 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 C'ha sul lancio Che mi guarda Non posso Non posso Ehi Mi ha agganciato No Ma porco Eh One Non ci voglio credere Raga Che è successo Mi ha sganciato il paracaduto E mi ha spinto più in là E sono finito a mare Ho urtato contro un pezzo Della nave E sono finito più in là Ci voglio credere Riproviamo Dov'è di bala Dov'è di bala Dov'è di bala Uè lunita Buon salve Buon salve a tutti Pronto Pronto Perché chemical è pulito No provate Provate contro No Vabbè ormai Vado io Vado io Vado io Contro Vado io Contro Mi pushano Cazzo Questa è il tempo di para Eh Tu come Eh no M'hanno fatto Però Affengo a lui Ero Affengo a lui Dobbiamo rimettere Fida a terra Dobbiamo riuscire Tutti e tre Insieme Su Deco Non me sa Buongiorno 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 Ragazzi Buongiorno Questo è il secondo Game del torneo Alla fine Hai fatto Quello che dicevo Io La nave Eh per forza Per forza Ma adesso Adesso mi push Vieni con Tony Con me Sopra Decon Secondo me È meglio Contro No Contro Lo stanno Ancora pieni Ancora pieni Vieni subito Sotto Ah Provo io Contro Dai Raga Non sono più safe Ora No no Io dobbiamo andare Da lui Secondo me Zio Perché qua Non siamo bene Stanno sparando Da qua Bro Brodi Arrivando Ce l'ho One shot issimo Te lo prendi Tu Non li ho neanche Sentiti Questi Fatta Aspetta Un secondo Aspetta Cinque secondi Lupo Prima di arrestare No 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 Vai tranquillo Non c'è Ho dato team A nientato Allora Scendo da voi Scendo da Decon Quello di Decon Sì 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 Era pulito Era pulito Era pulito Dai In teoria era pulito Ok ci sono Raga C'è uno qui Non so Insieme Insieme Tre Due Uno 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 è qui Me l'ha fingato Cioè Abbiamo un uavv Possiamo fare un uavv Sì sì Ce l'avete voi Raga Vieni qua L'ho lasciato al carrello Arriva arriva Stanno sparando E lì e lì e lì E l'ho visto L'ho visto A terra Terra Fraxia Terra Fraxia Tiro bomba Fanno agganciato da control Mi pushano mi pushano mi pushano in casa Uno è one shot Uno è vissato A terra Fatto Eh niente raga Sono Marco Sono Marco Uno dietro C'è il team di Marco Che vi sta per pushare Eh ho capito Io guarda guarda come siamo messi Guarda quello dov'è Guarda quello dov'è che sta là dietro Rompere i coglioni No perché hai piccato Tony Eh non pensavo Eh zì io ma non posso uscire da qua Perché sono Cazzo Eh Eh bro Eh zì Mi devi servire Il Peccato Ve la foto Mi servire Il live Vivo bro A meno che Vivo Intorno a Maribus Perchè non fa con Nooo Si sono fatto via trattare Due lì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bravo 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 Gioee Gioee Che è successo Buonasera Alessandro Sì c'è il torneo Torneo Vedi che uno sta regainare Uno sta regainando qua contro il fisso Sto facendo regainare Uuuuh Esce solo sopra Comunque l'audio non si sente raga C'è assurdo Grazie a tutti Ero il cacchio Come se come abbiamo perso il controllo di control Ma questa cosa mi sfugge Cioè il primo fight l'abbiamo vinto Eh lo so lo so In realtà sai perché abbiamo perso Perché non ci aspettavamo Che dopo che avevamo chiamato tutti e tre a control Tornassero subito tutti e tre insieme Sono tornati subito tutti e tre insieme Quindi il secondo fight l'abbiamo perso Il primo l'abbiamo vinto noi Poi sono tornati lì Con tutti che erano morti E Niente non l'ha sentito Eh gioca con le cuffie al contrario Buonasera Alin Buonasera Siamo in torneo Ciao Davide Buonasera Eh mi sa che giocava un po' con le cuffie al contrario Buonasera Benedetto Basta con la blia Eh hanno fatto tante kill Questi qua raga Bello fra bella sta posizione Non l'hanno visto O forse sia Mi sa che adesso lo sanno Sì l'hanno visto L'hanno visto ora Ha paura però Da piccarla Di uscire Eh ma son tre Vra Forse non sanno che uno Non sanno che da solo Quindi hanno paura a salire Eh minchia Va in tre lì Lo squagli Cioè lui deve solo andare via Eh si prende tutti i posti Dove piccare GG Ha fatto bene ad andarsene Eh ha tossito Eh gli ha tossito Gli ha tossito Anche con la maschera Incredibile Eh perché stava mirando Non l'ha messa Capito Ha entrato in mira È molto brello Eh questo qui non esce vivo eh A meno che non si prende No No Stanno sopra Guarda là Guarda là Lo aspettano Forse è da destra Ma le avevano visto Aveva tossito Stavano aspettando Si 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 Non si poteva fare nulla Niente Non doveva tossire Fra Forse non doveva Anhui ancora restare Adesso Guarda che la safe Tourna indietro Doveva restare dopo Sparano ancora da prison Tutta tutta Sul lancio E molto brello Sta tornando Si va a prendere La posizione Dentro il gasse Si campera Aspettando di ricevere Penso una delle prime posizioni Ci sta Ci sta Perché Tanto gli basta la seconda posizione Almeno per Fagli contare di più Le kill che hanno fatto Che comunque le hanno fatte La tale ha fatte white Perché Brello Ce ne ha tre Le kill le fa white Buonasera Giuseppe Buonasera carissimo Allora Allora Che facciamo Castiamo il torneo Castiamo un po' il torneo Sono rimasti In sei Ancora niente Sono alla sesta safe Ancora non si killano No Ma che fai Ma che fai Ho capito Se poteva pigliare la top 2 Ma all'altro dove si è camberato Sono rimasti 3 contro 2 Sono rimasti 3 contro 2 È in safe In safe In safe Già No vabbè Mi dissocio Mi dissocio Gli ha attaccato una crata addosso Ma perché Ti sento a piatto Che c'è il tuo Mio di risultato Vabbè Ma comunque Il ricognitore Da battaglia È una vergogna Che non l'hanno bannato Zio hai visto Si può usare No io scarterei questa Fra quell'altra Abbiamo fatto 13 kill Questa N'abbiamo fatte 8 Cioè c'è scarti questa Non l'altra Granda Pure Predator È morto subito dopo di noi Assurdo bro Assurdo Mi hanno vinto Aspetta Gli spagnoli Che mi sono perso Un attimo Si 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 Basta Così spagnolo Ah no no Aspetta No no Questo non è il team di cosa No però comunque Non penso siano italiani Basta Basta Che vengono Sembrosi stranieri GG È molto È molto Brello È molto Brello GG 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 Dai che Il prossimo torneo Chiudiamo i porti No 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 Mi dissocio Mi dissocio Si scherza Si scherza No questo è uno dei tornei In realtà italiani Ma che Praticamente Si chiama Est Proprio perché È un torneo Dove in realtà Giocano un po' tutti Italiani Spagnoli C'erano pure i francesi Una volta Inglesi Mostro In questo giro Forse gli inglesi Non ci stanno I don't know Fatemi sapere Quando aprono la lobby Zio Aperto Aperto Già E mi invitate Yes Yeah bro Come on Come on bro Invite me bro Invite me Ma usi il caricatore Da 31 32 Da 32 Se proprio Se proprio Può far piacere Uso quello Da 32 Zio Ci alterniamo Ci alterniamo Pronto? Ok Allora Eccomi qua Aspettate Nel frattempo Una puzzona Io me la devo Fa assolutamente Io direi Raga Allora Bisogna stare attenti Perché mo La negligenza Li abbiamo eliminati Da control In realtà Quelli sono tornati Lo stesso Non devono assolutamente Prendere No no Dobbiamo stare attenti A quando tornano Cioè Noi abbiamo pensato Vabbè L'abbiamo killati Tutti e tre Fine Finita No Fra Sono tornati tutti e tre lì E dopo c'è un fatto Quindi non dobbiamo pensare Finita Secondo me Solo uno Deve andare sotto Sul lancio Gli altri due Devono rimanere sopra Non far prendere control Sulla stanza Perché quelli hanno ripreso Le armi dalla stanza E ci hanno pushato di nuovo Eh lo so La so Deve andare solo uno sotto Capito A prendere il lancio Tutti i soldi Si raccumelano E va uno E gli altri due Stanno sopra Vediamo Stavolta sono entrati subito Me sa Si Mi sa che stanno tutti Si si Siamo tutti Mamma mia Più veloci della luce invece Oh avete fatto lo screen A sta partita Mi sono scordato Yes 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 Ah ok Staff 2 a posto Allora Mettete le mine sulle armi Così si ride No mi sa che sono bannate Fra Mi pare Se me non vado errato Ci vedi Metti Fufu Mini Mini Tutte le armi di contro Tutte le casse Fufufu Così non prendono più niente Zio pera Ma guarda ti dirò Se Cioè se famo anche Bastanza kill Anche un secondo posto Va benissimo Si 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 Non siamo ancora riusciti A arrivare Inizio del finale Raga Pensare attenti Agli errorini Che Cui Eh fra qua Il mezzo errore Ti costa la partita Eh capito Eh si Ma perché deve fare Ma perché devono fare i tossici Che sparano sui cadaveri Niente Devono fare i tossici Zio Anche a te Ha sparato sul cadavere No Per breve Vabbè Dai 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 Eccomi Allora Mi raccomando Sempre il solito Coso Alla Arrivano eh Arrivano con noi Sì si 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 Mi sono presi In tre il tetto Va bene Vabbè Prendiamoci noi Un po' di armi qua Eh hanno attivato la torre già Va bene Va bene Stiamo vicini Cominciamo a scendere In piano Non c'è più niente Da luttare Dai andiamo Scegliamo giù Uno ferito Ferito No sei l'ultimo Sei l'ultimo Vai via Eh non c'è No Sei tu l'ultimo Ah ero io l'ultimo Eh sì Ah questo è il gatto A scartare Allora Peccato Alla Che l'ultimo Io direi che Cambiamo start Sì Alla Peccato Sto game L'abbiamo giocato L'abbiamo giocato Dove andavamo Andavamo Ci pingavano loro Cioè Almeno il UAV Della torre Della torre Della torre No, Decon no, o bio o devi andare bio, fammi vedere, hanno fatto WP dove scende le persone, chemical, bio occupati, Decon rimani bloccato tra chemical e bio, non puoi fare Decon, mi fa un posto tipo, ok, praticamente lì c'è un team, quinto quarter c'è un altro team, no, va pure scendendo in team, ah, sono arbor Oh, fammi pensare, dove si fanno start a arbor, e poi da arbor te ne vai nuova, adesso valutiamo, dove facciamo un altro start, hai visto dove sono tutti i team? Hai visto dove sono scesi tutti i team? C'è un team che scende bio, un team che scende chemical, un team scende a nuova, un team di quarter, un team a living, un team a control E' un team preso Eh, ma uno, uno lo dobbiamo contestare, mi sa, però, eh Sì, ma ha contestato uno, eh, quale contestiamo? Ma ha contestato un team Quello di head? Quello di head non è facile, poi rimaniamo bloccati con quello di preso Eh, ma c'è che è di facile, zio Forse bio Proverebbe io a questo punto, che hai pure possibilità di scappare un pochettino tra tutte le scalette e le cose sotto Se volete, il prossimo, oddio Uuuuh, minchia Se volete vada stronghold Ma l'elicottero è bannato, zi Ma ha usato l'elicottero quello, fra Minchia, questo è il team dei predator Uuuuh, ce li Buah, guarda qua come si è salvato, fra Lucky Mamma mia, che culo Che culo No, bisogna contestare tre, fra No, va due Eh Aia Uuuuh Bicchia Cioè, erano due team Cioè, tre team qua, in realtà Eh, bello difficile oggi il torneo, raga Il livello è più alto Molti team sono quelli che si giocano i tornei pure fuori, fuori Italia Bello, c'hanno due lanci loro, ma ci sono tornati a control Eh, però vedi che fatti, una volta che ci hanno fatto fuori noi, control è rimasta libera, zio Guarda là Hanno ripreso fuori il lancio No, vabbè Uuuuh Cioè, avete visto che è successo, raga? Avete visto? Ah, hola, Paulin Buonas No, c'è, stamos in tornamento Avete visto che è successo, raga? Se sono fatti tutti con tutti Cioè, erano due Erano due v due Poi è arrivato il terzo Comunque sono morti tutti là sotto Sono morti tutti Cioè, questo è il livello del torneo Cioè, se spara uno, ne fa terra uno L'altro ammazza l'altro L'altro ammazza l'altro L'altro ammazza l'altro Appena si vedono Bella, amiche Uuuuh 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 È stata sbagliata Cioè, vabbè Siamo morti subito Eh, mo' loro pure stanno a problemi Non è, non è, non è facile Eh, ma hanno perso tutto Però hanno perso Dobbiamo rifare il game Hanno riperso le armi Qualsiasi cosa Sono tornati, ma Poi dobbiamo stare attenti Regà, bisogna Tridare Tridare insieme Per esempio La pure ci hanno fatto Perché Siamo arrivati Un millisecondo Dopo Tutti quanti Cioè Non so come spiegarlo Tipo Loro erano tutti e tre lì Attaccati Noi pure eravamo Entri insieme Però eravamo un attimo Siamo arrivati Non dico una alla volta Ma un pochino più distanti L'uno dall'altro E ci hanno messo a terra Una alla volta Di nuovo Hai uno se è riuscito A metterlo a terra Sì che era quello Che avevo craccato Cioè eravamo appiccicati Eh lo so che eravamo appiccicati Ero di fianco Ero di fianco Alla porta che hanno aperto Avevo preso una mitraglietta Che non avevo ancora un'arma Eh lo so Eppure siamo entrati Però voi eravamo attaccati a me Eh sì Eravamo li attaccati Però eppure siamo entrati Svantaggio Cioè Da quello che mi ricordo Siamo comunque arrivati lì Svantaggio Non si è capito il perché O per la position Perché comunque Loro hanno la porticina Là dietro E noi no Loro hanno fatto Loro hanno fatto Trade switch Capito che hanno fatto Quando tu hai craccato uno E' uscito l'altro Fu un piastre bro A me quello mi ha fregato Io stavo sparando al tuo Che hai messo one shot E poi mi è arrivato Quello lì Con tutte le piastre E mi ha messo a terra a me Sì sì E invece noi eravamo Forse tutti e tre lì Capito Quindi hanno avuto il tempo Di farci uno a uno E invece loro Entrava uno Se ne andava dietro Arrivava l'altro con le piastre Non lo so O non dovevamo scendere giù Fra E dovevamo andare a prendere sopra Però no Sopra un macello Eh ma da sopra Non avevamo Non avevamo Niente Sopra fanno gli sport Io non avevo Una mitragliata No Non si poteva fare neanche sopra Ficchia No Non si poteva fare neanche sopra Ficchia Oh non saprei Non saprei Quel fight Quel fight lì Che è molto strano Ahia Come gestirlo Perché Là stavamo Tutti tre contro tre Sono ancora in tredici E' mai giocato Apex No Non l'ho mai giocato Apex Legend Non saprei Ah ma da voi Si sta bloccando la linea Quindi La linea internet Arrivo subito Devo pure star Notire Però Oddio E' mai giocato E' mai giocato Eccomi qua C'hanno 20 kill Allora che è successo Bella Giuseppe Buonasera Oh ma vabbè Dovido sta laggando C'hanno 20 kill Basta arrivare alla fine Ma basta arrivare alla fine Raga E giocare Beh verso la fine comunque Te le fai le kill Perché ne restano In vita Sono dieci persone Comunque Sono poche adesso Eh vabbè Le altre partite erano Molto di più Esatto Quindi Ma che c'ha due Due mitragliette Zio C'ha due mitragliette Non c'ha l'assalto Eh c'hanno la posizione Se dovrebbero andare più a pro Oltre tutte con Eh infatti Cosa qua sta andando C'hanno tutti e tre Tempra Devo fare pure La classica Tempra 3 v3 Eh stanno sotto control Oddio Oddio Infatti non vedevamo Io non ho visto Quanti erano dietro la porta Prima Salute Grazie Grazie Eh c'ho l'allergia Come al solito Eh niente E' molto brello Come al solito Uè predator Non mi ha risposto Predator Non mi ha risposto Predator Ok Mi sa che hanno Avviato Vado a vedere Ho sentito una notifica Vado a vedere anch'io Vediamo Sì 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 Ok mi unisco Vedi l'hanno messo da discord Mi sto unendo da discord Zio pera Eccomi qua E mi sono unito I want to I want to Oro Vi invito eh Dove sei entrato Pepe Pelele Ok invito Tony Ok Vendetta conmigo Sì esatto E' lui E' lui Ah ma una volta fra Ci ho giocato anche insieme Mi ero dimenticato Ci ho giocato insieme Sì sì Dovrebbe essere l'amico dei Savi Perché un giorno Giocavamo io Savi Lui E Pingu Eravamo noi quattro Mi hai ricordato ora bro Non te sta comico Para Erano però i tempi di Verdansk Erano i tempi di Verdansk Quando giocavamo Eh bravo E' forte lui Quando comincia Comincia Il 28 di ottobre Il 28 ottobre Paolino 28 28 ottobre E' il 28 De october Pelele E' perché praticamente Loro mandano l'invito Su discord E tu puoi giocare Da dentro discord In partita Loro Quindi io accetto Da discord l'invito Non dal gioco A volte Non sempre Buonasera Roberto Mamma mamma E mamma mia Mamma mia Quindi bro Che land famo Eeeh Non lo so Non lo so Adesso se non volete più andare a control Decide voi Non lo so Perché fra La verità è che Stiamo a pia gli schiaffi Oppure Dobbiamo togliere di mezzo Il team dei diablo Però non è facile Eh no Non è facile Dobbiamo muoverci subito Perché loro non ci Non ci contestano subito Sto giro hanno aspettato E hanno luttato sotto Avevano le armi migliori E quindi ci vuoi riprovare? Ah non lo so Luco Perché io No no Non ti preoccupare Non ti preoccupare Paolino Ma davvero Ma io scioccare Solo da pc però Solo da pc Eh perché il problema è Dovunque vai Devi contestare O capiamo che team Vada da qualche altra parte Un team magari Un po' più easy Da contestare Non ci sono Ottimisi Più da contestare Però Boh Vediamo Eh Però Peccato Cioè La prima partita Contro lo farà Ci sono arrivati due team Uno più forti Un altro L'abbiamo distrutti Cioè È vero È per quello Dico Secondo me Non lo so Eh riprova Farà riproviamo Allora Come volete raga Io non Eh mi serve Tony Che parla Però Non Sì Tony è un po' spento Tony No no Non sono spento Eh ragazzi Devi comunicare Zio Cioè devi di che pensi Cosa vuoi fa Eh Eh no Dino a tua Allora Ritorniamo lì A che partita siete Siamo alla Adesso dobbiamo fare la quarta Dobbiamo fare la quarta partita Bella Gerardo Buonasera Più di me Penso che saprete voi Più di me Dove andare No Più che altro Ma no Ma più che altro Che ogni post dove vai vai C'è un team Quindi comunque Ti devi fai dare Esatto È proprio quello il senso Team più facili Purtroppo Non ce ne sono Quindi Piuttosto andiamo Dove ci sentiamo Più confident Per questo Credo che Controll Possa andare bene Più che altro Che se voi Sapete giocare bene Condroll Ci possiamo riprovare E comunque In realtà Perché noi Scendiamo sempre Libri Ma se La questione è Vogliamo contestare Il team di Freddy Quello lì Se la risposta è Sì andiamo a Controll Se non ce la sentiamo Andiamo ad un'altra parte Tutto qua Eh ma tanto Se non c'è Se non c'è Il team di Freddy C'è il team di Farah Se non c'è il team di Farah C'è il team di Kijas Eh ma magari Magari un altro Magari un altro Semplicemente Un altro drop Eh bro A me L'unico che mi viene in mente Allora Ti dico C'era Arbor Che non era sceso mai nessuno Ho visto prima Quando hanno tirato il Wav Non c'era nessuno Arbor Eh ma Arbor Non c'è loot Lupo Eh riprendiamo Nova Nova c'era già il team Ed è complicato zio Advad Ci perdiamo in tre Uno va a destra Uno va a sinistra Scale Secondo me Tradiamo male Ci fanno Più facile A questo punto Control zio Oh control Lobby Hanno chiuso la lobby Non so perché Forse non startavo Baggata Perché ne sono fie Allora Che hanno rifatto Adesso mi sto riunendo Da discord Muni gang Un italiano Italiano Vero Pensavo che si è Buggata la lobby Mo vi invito Sono io ci sono Ok allora niente Non mi invito più Allora Buonasera Salve a tu E però c'è ragione Arboros Se vai lì E non trovi niente Che non trovi soldi Loot E nulla Cioè fai la fine Di poveracci Living water Is the place No I don't think so I think that we have To contest control Control Maurizio Che non diventi un vizio Grazie per 200 stelle Dove vuoi andare Control quindi Che ha detto Che ha detto Pronto Control Pronto Control Eh sta mangiando l'hummus Se no Dai 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 Io direi Andiamo lì Ricontestiamo Spacchiamo la faccia Andiamo lì Spacchiamo tutto Da già la miseria Andiamo là Contestiamoli Fuori dalla lobby E così Uscirono Dopo 30 secondi Ancora una volta E ti tiro il bestemmione White White mi ha scritto In chat Ciao reviews Eh Scrivigli Ti faceste poco Tossico a sparare Sui cadaveri No perché io White Io non ho niente Contro nessuno White Ti voglio bene Aspetta scritto Ho sparato sul corpo Al lupo In prelobby Perché con Iskra Pensavo fosse Freddy Digli che mi scordi Ah ok Ok Infatti Non ci sono persone tossiche In sto torneo Io li conosco tutti Praticamente Eh fra Sono tre volte Che mi sparano sul cadavere È un È uno scambio di persona Lupo È uno scambio di persona Eh tutti Mi scambiano Mi freddi No No Ma c'è Tu salvatori Mi è team Concentrati Su control Zio Oh Se giochiamo A questo game Ancorso Già MC McDonald Facco tutto Prendo il pad Da 260 Lo tiro via Ah è sub suo Eh dai abbiamo Non stava andando Cioè in realtà Adesso sta andando malino Abbiamo giocato un game Però Eh ma guarda che forte Eh bro È forte white Uh ho fatto predato Caraga ma trova bene uno Che non è fatto Oh rifatto Just McDonald Mamma mia Come ce l'ho fermo Buonasera Alessandro Eh ci si prova Vite Dai dai Non spaccare Dai dai Chiudiamo in due secondi Si scende subito Insieme Bro Sobita Sobita E vai Capito Questa volta Vi la faremo vedere E così Vennero Wipati Ancora una volta Mincazzo Tenè Tenè Sobita Anche Anche Dai 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 Viene con noi Sono di nuovo loro Che sono saliti sopra È sceso già Che mi ha sparato Attento dietro Che viene uno di dietro A terra A terra A terra Dai dai Mi sta restando No Vattene Un'altra Eh niente Gli ha messo una terra Niente Bello Minca raga però Cazzo Control Basta Control Basta Ormai basta Non si può piatta E io l'avevo messo a terra Però Daniel Eh questo Non so chi è che mi ha fatto Ma era un one Tuttissimo L'ha fatto solo Perché è una lacca qua Se io non testa Un team dall'altra parte Non vuoi contestare contro Niente Rai Non c'è C'è Non 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 c'è Eh zio Sono scesi sopra Preso le armi Sono venuti sotto Io ho preso l'arma Mi giro Faccio Daniel E poi sono andato a terra Eh io ancora Avevo un'arma di merda Avevo quei Mamma mia È finita così Senza parole Eh dobbiamo cambiare Ragazzi Contro non va più bene Buonasera Luca Eh lo so Ma è d'obbligo Nel torneo Fra è d'obbligo Luca È d'obbligo Da qualche parte La devo mettere Quel monitor E Nulla Bisogna cambiare Cosa O se va B O Decidiamo Damo un altro land Fra perché Contro non si può Fà Ma Cucina prison Ma qualcuno Ah no C'era manco Lodda Il carrello Non si poteva Procandare Sta partita No ma C'è gente Chemical C'è gente White a terra Che palle Sono fatti a diablo Sono creati a diablo Stavolta diablo Ha cambiato land È venuto Qua in quarter Vabbè Castiamo Signori Castiamo Castiamo Il torneo Eh maluccio Il primo game Era partito bene Poi è andato male Castiamo un po' il torneo L'ha messo un altro A terra Ah Hanno fatto un bello start C'era un start Che avremmo dovuto fare noi Contro Ancora white a terra Anche il lato white Stavolta Stavolta sta partita Stavolta Stavolta prendo Di schiaff Eh E mancano due Dopo questa Mancano due Eh si è bloccato qui Si è bloccato qui Muoviti Muoviti Fate Fate Uavvista Ti perdiamo tempo Bello Stavolta E' più preciso Questo puntino Così è più preciso Daniel ha fatto La giocata Brutta Brutta Non si fa Con la giocata Nuova Non si fa E l'hanno Io vado a farmi Una pubblica Hai visto Vai 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 Io custom ball Il torneo Eeeh Io sono già in pubblica Eeeh Daniel Voglio aspettare Un altro altro Daniel ha sbagliato Sbagliato Giocata che noi abbiamo imparato Che non dobbiamo fare Nei tornei Quello di andare da solo Soprattutto da qua Nuova Attrizzando la serando Mo sono rimasti bloccati qua La soluzione è Andare via Andare via Secondo me Andare via Da andare a prison E' inutile Continuare a sparare così E' inutile Mo vi siete ribloccati qui A fa che cosa A spararvi Da Tenda qua Da tetto a tetto Finestra a tetto Comunque pure se lo metti a terra Se resta Perché guarda dove sta La bella giocata Porta davanti Come scudo Non passano i colpi Buono ma non è riuscito A metterli a terra Ma è inutile Vabbè vediamo gli altri Che stanno facendo Uno è in volo Che era morto Inutile Inutile Se stanno appiccata Da qua Nuova No No Fra E' un pazzo Un pazzo Infatti l'amico subito a terra Fra E' un folle Il zio E' morti tutti E' morti tutti Ma siete pazzi Bro Quelli che ci ho anche il lato Sono appena morti Bro C'è No ma Sì Fra Dopo che si sono fatti Ultima headquarter Di white Hanno pushato Nuova Sono morti Tutti e tre Peccato però Quella giocata là Pure noi Abbiamo imparato A nostre spese Che non si fa Non si pusha così Da head a nuova Soprattutto se sono Tre piazzati In quel modo Non si pusha mai Stai molto in svantaggio Di solito pushi Quando gli altri Sono distratti A nuova Ti vai Rubi due tre kill Se ne vai Sessione Mamma mia Come si muore Bene Eh sono Abbio Forza Abbio Resta l'ultimo E anche loro Comunque Stanno per Per lasciarci Bella Daniele Buonasera Buonasera Siamo intorno A bello di casa Buonasera Buonasera Marco Siamo intorno Ragazzi Siamo intorno Però Siamo morti Mi sto guardando Altro mini Bravo GG Hanno fatto anche questo E nulla Signori Nulla Appena Appena si fa Una cosa sbagliata Va a terra Muore tutto il team Oh questo è stato fortunato Ha fatto rinascere Non ha più nulla Solo un lancio Buttato al living Molto rischioso Che culo Che culo Gli era uscito Uno a destra Perché si butta nel fight Se ne tira via uno Tira due Tira due Viate Se ne arriva Terzo Mio Dio Che cosa ho visto Là Tra l'altro Era il team De predator Mi ho scritto Fra Era il team De predator Cioè Sì Sono rimasto Così Fra GG GG Questo va Il team Peluca Toccoso Qua Forse sono Spagnoli Torre Torre picca Immagino già Chi sia Quello là sopra Ah Safe Chiude Verso Living Sono rimaste 14 persone Questo ha 3 kill Come potete vedere Siamo tutti NZ NZ Blix NZ Marco Ma quella Ha combinato Una roba Fuori di testa Ero là dentro Mamma mia Là dentro Panico Signori Allora Si tengono Una posizione Dentro la casa Sti tre Stanno Bene Che posizione Stanno molto Bene Però Gli altri 4 team Dove sono? Sono 12 persone Allora C'hanno un team Nell'altra casa Di living Che si sta Sparando Ok Un team E' morto Questo c'era 6 kill Quello c'era 3 Se non vado Errato Tutti con la blix Ne questo team 7 kill Questo Siamo Siamo intorno O domenico Siamo intorno Al momento Li ha Ingravit Beh diciamo Che sicuramente Sì Qualcuno E' tornato Indietro Insomma Con qualche Bambino C'hanno uno Sul tetto Credo Io ci sono Stanno ancora Finendo Il game Qui Sono rimasti Tre team Ci hanno Qualcuno Sul loro Tetto Sicuro E L'altra Casa Del living Sono Bato Errato Quelli Si sono Presi C'ha Il giro E' Passato E' Passato Sono Passati Sono Entrati Nella Casa Bro Prenditi La maschera Che stai Facendo Sì Che c'è No No Mi muto Mi muto Ma no Fra ma c'era la maschera a terra Non l'ha vista Sì Mi sono mutato Non vorrei dire ma potrebbe condizionare il game il fatto che non ha preso la maschera lì eh Mi potrebbe condizionare il game Cioè vedi mo tu stai qua nel gas zio mo se avevi la maschera e tranquillo Qua si è fatto prendere dall'ansia rega sicuro Non l'ha vista proprio secondo me la maschera a terra stava con l'ansia in mano E infatti adesso la compra Comprai un WV agli amici tuoi bro Non devi fare le piastre Compra un WV al team tuo Ma no entro nel gioco ti distruggo Dopo tre ore gliel'ha dato l'WV Cazzo tu subito glielo devi tirare Poi non starei mai da solo così Ah ha preso il disco E anche gli amici hanno sbagliato comunque Cioè posso capire che lui muore qua perché Stai senza riparo Ci stanno tre dentro la casa Appena spari uno escono in tre Però vabbè Però gli amici sul tetto perché se sono fatti ammazzare Non l'ho capita questa Potevano rimanere ancora sul tetto Vabbè Vabbè I don't know bro Sette kill da Blixen col pomello sopra Allora guarda domenico Io Oggi che è martedì Io il mercoledì o il giovedì Gioco praticamente con chi è abbonato al canale Però se in uno di questi giorni Riesco a collegarmi a ora di pranzo Mi faccio qualche partita con la chat Però di sera è difficile O sei abbonato al canale di sera O sto col team capito Un po' un macello Allenamenti tornei eccetera Ora di pranzo Quando ci sono magari attacco Potrei farmi qualche partita ecco Che posizione abbiamo fatto a quella di A? Ma brando Brando Yari Yari che hai combinato là dentro A quei tre che ti sei fatto No è uscito Tacci sua Allora Hanno finito la partita ragazzi Quindi penso che adesso aprono eh Va bene bene Quando sei dentro invitami Entro Entro del gioco e ti distruggo bro Allora vediamo se hanno Mandato l'invito su discord Sì l'hanno mannato bro Ok sono rientrato Ta 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 Nuovi invito No way bro Invito Invito mandato Tony biscotto con i baffi Mandato Via ci siamo Eh Che stavo a di Forse Forse è uscito da quella casa A ragionare Perché ero troppo pazzo Però mamma mia Wow Vediamo Vediamo che si dice Allora non siete dentro Invitatemi raga Io t'ho invitato Da mo' eh T'ho invitato Io sono dentro Scusate T'ho invitato T'ho invitato Uè non dormiamo con la zizza Non dormiamo Dai 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 Capisco la zizzone di battipaglia è bella Però Oh lupo Beh cazzo scendiamo Abbio Va bene Abbio Già volevo scendere prima in realtà Però Ho Cioè Ho detto Cazzo carichiamoci Le andiamo a spaccare Niente Mi ho perso troppi fight lì Mo' eh Non si può più scendere Non fa più Non fa più Non è più cosa Non è più cosa nostra Zio Peccato Peccato Fra Peccato Cioè il primo game Avevamo fatto il panico lì dentro Va bene Non è più cosa nostra Cioè abbiamo la sfortuna che ci seguite Alla Beh Oh vabbè Ma ma non c'ha la Ma non è vero Non ha la Non ce l'ha lei Al massimo De potrei di De diletta Entro lì ci siamo Ci siamo Ci siamo bro Vorremmo essere tutte le squadre No Non mi vedere Yes Se è molto Brello c'è Quello c'è Mio nonno c'è Sì Sartato eh Speriamo che scende bene A biola safe Dai cazzo Se bio Se bio è safe Possiamo Vabbè no Vabbè vediamo un attimo Vediamo un attimo Allora da bio di solito il giro che facciamo noi nei tornei era Era Se sempre se riusciamo a fare tutto il lancio e tutto avvio era prendere Sempre se Ammettendo che vado tutto bene facciamo il lancio e tutto a posto Da bio praticamente di solito andavamo sotto decone e da sotto decone prendiamo tunnel per chemical e pushiamo così Oh 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 eh 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 Oh ah ah Bella madonna Sì questo peluca è un laser con la primaria Che è quello straniero Caccia Sparata tutto quanto Maronna Che dobbiamo fare Siamo In down Quindi dobbiamo Minico Caricarci Proprio avere le nostre armi Sennò La più dura Cioè Eh già Cioè gli altri sono tutti pompati al massimo Noi purtroppo Veniamo da due game choc Siamo gli unici Io sotto o io dove? Siamo gli unici Che va anche sopra E poi scendiamo subito Al secondo piano Intanto siamo gli unici Ad essere arrivati qua Ah guardia C'è gente raga eh Sì c'è gente sotto Gente sotto di noi Ho visto uno Vai insieme Vai insieme a lui Subito No Rivappo 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 Aspetto che arrivano qua Hai rivappato del brutto Pure tu proprio Ok Io proprio Me la so squagliata Gambe elevatissime Ma guarda dal mid Non fa niente Che dove va? Ti lancio l'AV Lupo Quello che posso fare Questa Lancia No ma adesso Fatti Ah ma sono rimasti lì Dentro Vio Eh Non abbiamo andato qua Non abbiamo andato via Contro è risceso il team Sì Sono riscesi di nuovo Quelli lì Stavolta Abbiamo il Lodi Dai andiamolo a fare lì Ad Elkon Che loro lo vogliono fare lì Eh Eh sì Infatti loro Il lancio Lo possono fare Stanno per venire Ce la facciamo a fargli Sto giro Aspetta Ancora sopra Ancora sopra Aspetta che si lanciano Magari E' tirato Uno one Proprio dietro sta porta Eh no Cioè è sceso È sceso sotto Eh no Ho sbagliato lì Ma ha piccato In due Sta uno L'altro è sotto la porta Di mio Che guarda Sì Ciao Aldo Buonasera Siamo intorno E ho C'è arrestato Voi quello Ma dov'è che l'avevi messo a stare Lo volevo confermare Eh qua Qua un altro team Eh un altro team Dietro No Vabbè c'è un team da prison Sono arrivati da prison Eh con le armi Eh hanno fatto il loadout A prison E sono arrivati Bene Mamma mia Chemical era libera Col UAV Non ho visto Eh forse si Sai No però hanno tirato No però hanno tirato Hanno tirato Lo loadout Sì però Verso chemical Eh La chemical Guarda Proviamo a scendere Eh dove vuoi scendere No Ho la nave Brutta la nave Cazzo E hanno fatto il lancio però contro Eh No dai Sotto prison Sono andati via Quelli là Eh proviamo Eh ma c'è gente C'è gente ancora su seafight No però seafight Gente sopra prison Sopra sopra prison Io scendiamo Stiamo sopra Eh sono in cucina io Qua c'è uno a blixen Bella la prendo io E qua c'è un marco con type Erano fuori verso il muro eh Verso il muro c'era gente al muro di prison eh C'è uno sul muro c'è uno sul muro Amici qui vicino Eh l'ho vista Forse potrei andare a C'è anche gente qua da me mi sa eh Sì raga Vai scappa Eh uno fatto Eh sono morto sono morto Audio Eh a me mi ha fatto Vabbè 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 La scende qua C'era Sifu dall'altro lato che mi teneva Aspettami Tony prima di scendere Eh Dovemmo andare Eh l'ho dimmi L'ho messo malissimo Cazzo malissimo Forse possiamo Possiamo prenderlo Vado io Tony Aspetta eh Scusa Lo prendo E vado sotto prison Eh sotto Possiamo andare sotto prison eh Niente niente L'hanno preso pure loro No C'è un altro team Eh sì 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 c'è un altro team Eh c'è freddi su control Ah non era control Era anche lui Pena spawnato Mamma mia raga Ma come cazzo Bisogna giocare Sì scendi A chemical Prova che Eh no No ma è già andato lì a chemical Eh ma non puoi scendere Manco lì a lancio Zio Stronghold Di te ci sarà un team Eh lo so Però mi sa che è l'unica eh Eh però Prova Prova Tanto io sto rincando adesso Come Torre libera Torre libera È sceso uno È sceso uno Qui mi è sceso Ma hai sceso Con le armi? Non lo so Non lo so Mi è sceso Non è sceso Sdraiato È one shot È one shot È one shot One shot Dissimo adesso Pucciamolo Dai Non ci facciamo Nemmeno questi A terra Uno di vita Mi ha chiamato Che sono uno di vita Ci pusha dal carrello Dal carrello È arrivato È arrivato È qua fuori Sago su tetto One shot One shot Rupo Puscelo Fatto Bravo Piastro Brody Sono a zebra Che l'ho Ce l'ho Ce l'ho Come rifai il lancio Vai vai Facciamo il lancio Dai 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 Passami i soldi Rimanenti Non mi bastano No non ce la fai Però te l'ho lasciati L'ho lasciati Te possono servire Eh lo so Prendo tempra Allora Se abbiamo culo La safe si chiude qua da noi Se abbiamo culo Bello sto bar Eh ma dovremmo Dovremmo fa qualcosa Anzi Prendo una saglia Sì di me lo so brody Ma cosa facciamo Dobbiamo pushare Per le kill fra Andiamo andiamo dai Dobbiamo pushare per le kill Eh se no Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Vado con Tony Vado con Tony Ci vogliamo proprio Rappi a control Dai dai Pusciamo Eh però Pusciamo Pusciamo Qui Se no C'è un solo figure di merda Una è di fronte a noi Vabbè Eh ma mi tengono Mi sa piccato eh Detro il muro Reste Non riesco a restarlo Gio Aspetta un attimo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Tu dove sei Livio Io sono qua A coprirti frate Posso andare Posso andare No Torre 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 Niente mi tengono Piccato da sopra Ha busciato Ho fatto uno Hai fatto? Un altro team A terra a terra Un altro A terra bello A terra bello Con la granata St'arrivando uno Qua in fondo Uno è qua in fondo Tranquilti Sto coprendo io Non vedo nessuno Ti copri a finestra Vogliamo entrare? Vai 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 Let's go Vai lupo Sono dietro il te C'è gente Sento passi Sento passi Sento passi Sento passi Io sono a terra Confermato Mi faccio Mi faccio Mi faccio Mi faccio Cazzo Ma è venuto Il cazzo Mi faccio 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 Non posso ripigliare le mie armi, vero? Prova a prenderti quelle... Beh, beh, vengono da voi, dai Qua sopra, qua sopra È sotto, è sotto al carrello uno, eh Vieni, Tony, vieni Oh, cazzo, ma stanno qua al secondo piano Era qui, o no? Merda Tony, Tony, devi stare vicino, però No, no, no Peccato Eh, aveva cazzo di ricognitore Tony, non ti devi staccare da me di sotto, però, proprio via Ero attaccato a te, mio Eh, no, Broly, non eri attaccato a me Vuoi l'articolo, non fa niente Va bene, va bene, no, dai Non ci sono, non fa niente Tranquillo, tranquillo, siamo esisti Cioè, ero attaccato a te, ne ho messo a terra uno E sono arrivati altri tre Dove team, regà Io pensavo che eravate ancora sopra ad aspettarmi Il secondo piano Stato al secondo piano di control C'era un altro full team Vi ricordate che posizione abbiamo fatto? Eh, sesti O sesti o settimi, non mi ricordo Ma si vede quando finisce il game No Porca di quella miseriaccia C'è anche il land Minchia, il land è stato tipo un travaglio Eh, il land è quello che ti penalizza Il land è il travaglio, raga E' lo start, lo start che E ci frega Eh, ma non devi perdere mai Lì sotto, lì sotto, raga Cioè, piuttosto Tony Non lo so, non lo so Non lo so I don't know bro Tutti con sto cazzo di ricognitore Comunque, ma perché non l'hanno bannato? Io appunto Io pensavo Eh, io Ma gli ho parlato ancora prima Che iniziassi il fight Però io pensavo Eri proprio attaccato a me Eh, non è stato addirittura Vorrebbero vincere l'oro? In caso questo si poteva vincere, ragazzi Se torrivamo gli spagnoli da control Parca miseria Ma era toglie o non toglie Le sono arrivate due team poi, eh? Eh, questi erano Ma se riusciamo a gestire bene Che loro magari si fightavano Arrivano a noi Questa poteva essere Una buona partita Sì Per forza vengono loro Ci vuole andare a fare la kill Zio, non lo vuole far morire il gas Ma di sopra Eh, l'hanno dilato Eh, vabbè, ma ci stava Ci sta, ci sta, ci sta Allora Sesto posto Buonasera Che detto che detto Sesti comunque Mamo dovrebbe comparire Hai fatto la foto Dalle killer Io gli ho detto Sesti Sì, sì Gli ho detto Sesti Vai, 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 vai Perché tanto non siamo un po' riposizionati Prima di noi Esserebbe fatto abrello Cams è morto gli spagnoli E poi c'è stata Ma lì che il Prima di me è morto Di Just M Di McDonald Secondo me è sempre Morto prima McDonald Poi Predator Eh Facciamo atterrare uno Tipo su nave No Se moriamo No, sì Contro fa sempre un team Quindi Non puoi Prondo Prondo Eh, Andre è male Male, male Stai andando male Frate Stai andando malissimo Vediamo Aspetta Ma dovrebbero aver ribidato Questa è l'ultima Teniamo l'ultima da fare Giusto? Sì, sì, sì Allora Vediamo Hanno aperto già È incredibile Fra Più veloci della luce Hanno aperto già Beh, nell'arbitro Prima che finisca Se ne va Secondo me Sì Beh, per forza Così riesce Subito a invitare E fare subito L'arbitro Allora Voglio che l'arbitro Fra Fa qualche cartellino rosso Abbiamo bisogno Di qualche cartellino rosso In qualche squadra Fra Ma qualcuno che corre No, mi dissocio È all'arbitro Sì, questa è l'ultima Fra, è l'ultima È l'ultima È l'ultima Vediamo Vediamo un attimo Dobbiamo fa Vediamo di fa l'ultima Dove famo tipo 40 bombe Così Vediamo un po' Zio Dopo Almeno l'ultima Io voglio provare a vincere No, stasera non sto Con i ragazzi Di officina del pad Stasera Sì, tutto me stesso Ma Sto giro Ancora più Più focus Raga Cioè Non so che cazzo Lo start Fra Lo sai che fare Non dobbiamo perdere lo start Eh bro Dobbiamo vincere i gunfight Allora No Il fatto è fra Che quando uno viene Viene agganciato Non deve avere quella cosa Che uno lo aggancio anch'io Se tu Nodi sulla minimappa Subito Che sei da solo Che non hai compagni Dietro di te Fra Te ne devi scappare subito E devi andare incontro ai compagni Anzi tu intelligentemente Te li Te li fai venire dietro Così loro ti seguono Per pusharti Invece vengono da noi poi Certo Certo No ma Lufo mi sta dicendo Cioè Sono le basi Zio È l'unico modo Però che dobbiamo fare Non ci sta uscendo Sto sbagliando io Raga Non fa niente Porca miseria Porca Non me li aspettavo Due team Non mi aspettavo Il non Eh lo so Antone lo so Però Bella Bella lobby Zio Bella lobby Tutti fortissimi Qua dentro C'è stanno gli spagnoli C'è stà Kijas Con Marco E Tata Bella lobby White Diablo C'è stà Predator Sto giocando pure Contro Predator Stiamo tutti Tutti più forti Stiamo qua dentro Avete visto morire Come un pollo Perché va a ricognitare La battaglia Sennò mi seguiva Dall'altra parte Eh lo so Ma il punto è che No non facevo Il ripick Zio No è che sennò Dovevi scappare Come un serpente Avanti indietro Avanti indietro Tutte le Non lo so Le scale Ma comunque erano due team Ti beccavano Mi sa Noi avevamo tipo 16-17 secondi Prima di rientrare Era un po' un casino I don't know I don't know I don't know No frago Non bisogna Allo start Bisogna fare Quel cacchio di lancio Non bisogna morire Eh lo so Lo so Eh allora Quindi Quindi E quindi Bio man quel cosa Andiamo a fare un bagno A chemical Non lo so Cioè ormai Oh Sì perché contro Sicuramente Freddi Sarà incazzati Cioè saranno Dei incazzati Eh però Tu hai visto Loro come Come fanno Controll Si buttano sopra Se no andiamo sopra Con le pistole Si pu 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 Ci si spara sopra Con le pistole Affan bagno Si fa Si va a fare Far west Sopra control Cioè che ti devo dire No bravi Andiamo Piuttosto l'ultimo Giochiamo Andiamo a chemical Come ho detto Vediamo cosa succede Anche perché Se le agganci sopra Cioè per forza Stanno con le pistole Boh Vabbè Vai chemical Cioè scusate Quelli scendono sopra Con la pistola Vai tutti Là sopra Con le pistole No prison No prison no Prison no Buonasera Roberta Prison Per me è uguale raga Eh Cosa facciamo Tipo Tony è il classico Della comitiva Cosa facciamo Stasera Quello che volete raga Eh quello che volete No vabbè Quello che vuoi tu No ma quello che vuoi tu Quello che volete raga Si opera Nera Io rido per non piangere Perché porca troia Dio Santino Morono Dove stiamo Ma io che Cosa ne so Raga Non ne ho idea Non lo so Tanto abbiamo visto Che cambiare zona Non cambia La situazione Dai 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 Basta Faccio prendogli Le eredine della situa Luca Prego E adesso Giocano tutti Con la pistola Fra Non prendo neanche Lo dottino Tutti con la pistola No E sto sparando L'amico Lagiù Non mi rompo Le scuole BADONSAND Era meglio il mitraglione Allora Fatevi Dai 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 Carichi Io sono una molla Eh una molla Dai dai Buonasera Adriano Dai chemical Porca di quella broca Dai dai Cosa devo fare Per caricare Dovrei stare lì Di persone Dietro la vostra sedia A tirare schiaffi Ma per che hai me zio Io sono Io sono carico A tutti Schiaffi a tutti Che è il primo Che perde Un gunfight 1v1 Raga Lo vado a prendere a casa Andiamo Mannaggia La madosca Mauro Gabbiano Arriva un team Con noi Ho missato Il land E anche io ho missato Ho finito sotto Un'altra parte Non ho trovato Un'arma Non ci voglio credere Dai ma perché C'è un'arma Io ho un'arma Io non ho niente Scappa scappa Rupo 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 No no Sì Rupo Eh no Peccato L'ho messo pure a terra Eh ci ho provato Però mi sono arrivati In tre Neanche in arma Sono riuscito a strufare C'è gente pure qua C'è gente anche a bio Aspetta 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 andate più in volo Sì 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 E poi vado a stronghold Qui già butta male la sigla Cioè vedo già gente che hanno fatto i load out Incredibile ho neanche un'arma mi fanno trovare Già stanno Aspetta Tony eh Sta in volo Eh no hanno fatto load out qua Sono morto Non c'è che bio non ricordo Se c'era gente Tutti hanno fatto Fra Fra io provo bio E invece no c'è gente Eh mi hanno fatto M'hanno fatto M'hanno fatto c'era gente C'era gente con le armi Quindi posso Me posso cantare una canzone Oh si stanno Oh Che è successo stronghold Eh niente Lui team frate Vai un po' tu Tony Vedi il living com'è Eh io sono dovuto scendere Mi sparavano dalla torre Eh torre c'è in mano Mamma mia Ma sta con la C'è caluzza living E niente Ma torre sta con il mitraione Eh sì Sta con il lato Oh proprio Che è nova com'era Lupo No nova di solito C'è stata Mbim Eh guarda qua guarda Control che rompe i coglioni Come pushano Eh io provo nova Tony aspetta un po' Non venite qua Figurati zio Ma secondo te è un'arma seria Posso trovarla C'è questi campi erano poi Si sono gli spagnoli sicuro 100% Si sono agganciati Ero one shot Lo localizzante vale Mi pare di sì Sì C'è il team Ma raga ma sono costante Non mi vedo sulla minimappa Dove siete? Come fanno a prendere la torre? Com'è Tova? Eh Tova No nova zia è infattibile Sono morto Ma questo lo stavo Ah alzate Sono ad arbor io Ho preso il lancio Ok Adesso prendo anch'io brodì Pusciamo quelli di Di nove zio Che Giro li sfondiamo Aspetta un secondo Mannaggia discord Dipende dai ti aspetto Oprimi il Lodi 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 Dipende Te potrebbero piccato a preso Non ti posso fare molto Mi possono piccare da Da mille Sì tu è C'è uno sopra il tetto Di chemical Fatto No si è salvato Non ci voglio crede Ma ok Ma l'ha data Ma l'ha data Oh la madonna Frana La chemical L'ha piccato? Sì Eh saranno gli amici Un saccottino Eh bro No Minchia Nova M'han distrutto Eh Qua no Il cazzo Che be' a pushare Sanno già che siamo qua Non possiamo pushare Nova Lo sanno Eh Non possiamo fare niente Ma che roba Stanno per pushare Stiamo vicini sopra Eh proviamo Non credo che pusha No Sembravano Le munizioni Le munizioni Oh ha pushato Ha pushato Ma che c'ha Silenzio di tomba Terra Ok gli altri sono lontani Gli altri sono lontani Ma zì Ma zì Ma non si sentiva Che ha messo silenzio di tomba Beh Magari E' un po' più piano piano Eh sì Vabbè Se fa tutto il giro Ha acquattato questo Questi adesso li pushiamo Non le piastre Siamo due più due Vieni Non c'ho più le piastre bro Ah tieni Te l'ho messa qua Vieni vieni bro Adesso li spacchiamo Wow Per me è usato silenzio di tomba Lo sono un zetto Problema è che qui adesso Sopra Figurati Figurati adesso zio Salire lì è la morte Salire là sopra Dobbiamo salire Oh facciamo tutto il giro Da sinistra lupo No dobbiamo salire Vieni vieni Invece no Levate levate Scappa 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 Ti copro io Fai tutto il giro da sinistra bro Fai pieni vieni Segui me fra Ti seguo Sono sotto Oh ma c'è uno qua sotto Non ce lo voglio crede Io me la sto squagliando frate Io me la sono dovuto andare Sì dove è 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 Dio mi stava per fare Porca di quella puttanazza Eh sei in un brutto posizio Oh mamma questo pad Che f***o La pesca Niente che niente Sono una roccia Sono E' arrivata gente da fuori safe Da dove sta il lancio nostro Sono una roccia Venite Fai la tempest Ah questo qui devo Devo ammazzarlo Eh no Eh no Mi sembra che sono morto di nuovo Ingino che c***o Oh ma ha fatto l'ultimo Ah me faccio Eh sono un cretino Ah che brutto pick Eh mi vedeva Mi vedeva Mi vedeva Mi vedeva Che palle che c'è stava Secondo me quelli di rava E erano sul lancio nostro Il lancio va pure fuori adesso Eh io Io ci provo Non lo so se riusciamo No ma farò che riusciamo Ci provo io Ci provo io tranquillo Eh ci provo pure io Allora C'è uno c'è uno No zi Vai un altro Un altro Vivi No Sono un tonno Mi sono schiantato No No Eh non c'è uno 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 c'è Non t'ha dato la killer Eh no, no, perché è morto col gas dopo L'avevo craccato Mica che disagio ora frate Ora, 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 ora E dove cazzo vado Eh Tony tu come sei messo lì? Non ti ho idea Fraccia ha una pistola Sì sì, tre Sono fatto Sei riuscito a vedere se è qua qua Su Qua sopra, sui due quarter c'è gente Vabbè, rimango in volo io Eh vabbè No, ma è inutile andare là A prison, bro Bro, dì, volevo le armi, si stavano facendo sopra Tette, era l'unico meno, era l'unico modo per Per provare, zio Non sapevo che altro fare Nave Tu devi provare la nave Eh, nave, zio, eh, prova la nave E vai piano piano in safe Eh, aspetta, guarda chi ci sta qua Guarda, abbiamo tre kill, fra Anche scriviamo primi, bro, dì Mi renderei dentro la casetta di quello Fra solo per fare la kill Eh, che falle Non voglio, non voglio Non voglio, non devo rendere Posso prendere il bazooka? No? No? Oh, dove è che sparava quello, zio? No, mi devo prendere la roba di questo? Ah, che falle Mi stavo guardando Alla che alla kill Ah, ma perché hanno messo Mi guardava Cioè, quando hanno messo Ha stilato la torre Riuscirò a vedermi fin lì? Con la torre attiva? Eh, sì La torre è tipo Mamma mia No, ma non è loro però Aspetta Non è loro la torre Dai, andiamo in pubblico Che se no mi cadono le palle Però pure il brello Cioè, la seconda kill Il brello l'ha fatta su tutti i mezzi Che stavano arrivando sotto di loro Mamma mia Accada, avevo preso pure le armi E poi, ragazzo, non abbiamo iniziato a fare Non so cosa è successo poi, raga No, vabbè Sì, ma quanti sono rimasti qua sotto Dentro il gas Guarda qua Ancora stanno continuando a girare Quello sta ancora dentro Sono rimasti due v1 v1 C'è ancora cams Cams si è presa la safe Eh, ma zi Ma così stai abbastanza maluccio, eh Continua a tossire No, potevi aspettare la silinga Fra Ma abbiamo ancora un po' di tempo Ah, che scaifo Sono agganciati sotto living Attenzione perché smette di piastrarsi Si gira Oddio 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 Atterrato Marco Oddio 1 v1 No, sono rimasti Marco è a terra Però Se si resta Non si capisce Non mi fa vedere Non ho capito se l'ha restato Fra Non credo Non credo Non credo Gli lo sta pingando Fra Vedi che è ancora a terra Marco Si Eh, 1 v1 C'è credo È sul tetto Eh Cosa Ma zi Ma non è normale Sinistra L'ho sentito Ah, destra Ragazzo Va Ma 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 Fra Come Come A fare Ma Ma Sì Perché Si vedeva Il Il piede O il mantellino Tipo Una texture Del mantello O il piede O se no Mentre guardava Sulla mira Sissita Gli ha raffentato Quanto È in bolla Troppo possibile Anche con la roba lì Cioè Ha preso Direttamente Ha preso Da sotto Cioè L'ha preso Proprio lì Fra Proprio nel punto giusto Ma Dalla tenda Vabbè È live Pronto 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 I don't know I don't know Vabbè Vatta a fare la pubblica Vatta a fare la pubblica Dai Vieni anche tu Più lupo Per le wagers Ce lo iniamo Eh dai 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 Ci vuoi zio Tranquillo Cioè Se no Stacco No no Vai 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 Facciamoci Qualche pubblica Non hai altro da fare Che cazzo Come no C'ho C'ho da andarmi A mangiare il gelato Dai Invia Mi ha invitato Ok Ok Signori Vabbè Torneo finito Niente Si va In teoria Abbiamo un altro torneo Quando è il 31 Quindi ci alleniamo Per il 31 Dai Vabbè 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 Ma Tony c'è Va bene Ma te No 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 Voi allenate Per le wagers Ah ok Dai Alleniamoci Dai 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 Non vuoi venire No no Tranquilo Tranquilo Vado in privata Va buono Va buono Va buono Non è contento Delle sei partite in privata Vuole giocare altre private Non c'ho parole Allora Comunque detto ciò No Non penso che ci tasse Però Lei è sembrato molto strano Boh È da rivedere col var Quella giocata Bella bella Tony Bella bella Tony Buonanotte Buon Natale Non lo so quello che è Oh guarda che sono le lobby landesi Questi Voglio vedere la lobby landese Come è Dai 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 Sono tutti fatti qua Oh domani esce Cosa la playlist con gli zombie Eh Domani esce la playlist con gli zombie Su rabbit Ecco Ecco che faranno un'altra cagata Scommetto Ah se polle va Questo Ah fa un mok Finalmente Oh Che skype Eccoci qua Eccoci qua Città non si vedeva niente Ma Lì c'è whatsapp Piro Invece di continuare Non so brave Non so brave Prondo Bella marmine Prondo Madre Tata 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 Siamo Yes bro Cato che ieri il torneo L'abbiamo vinto noi Mario ieri il torneo Non è che li puoi vincere Tutti i tornei Ah raga poi questo torneo I capodinoli lì mi trago Sono uno dei tornei più difficili Che si possono fare Sai chi ha vinto Sto torneo Penso gli spagnoli Chi lo sa Non lo so Ogni partita S'ha vintato uno diverso Mi pare però eh Non ti saprei Non ti saprei di eh C'è Piro che scrive Lui poi ha giocato male Eh lo so Cazzo dice E' un bot Si fa Turnare Poi ha scritto una parola Infoprensibile Ma vi robot A me tipo Boh Vediamo un attimo Ah aspetta Comunque ho letto Meglio il regolamento Per il 31 eh Allora Ma ti sa se uscirà Un nuovo mappo Tornerà Verdaskin No allora Praticamente Ti spiego Ricca Esce il Canotuti nuovo Il 28 ottobre E dopo Praticamente Qualche mese Faranno uscire Un warzone nuovo Con una mappa nuova Che non c'entrerà nulla Con questo Quindi esce un warzone nuovo Direttamente Verdaskin non si sa Se torna Qualcuno dice Che potrebbero fare Diciamo Come hanno fatto Con Rebert Quindi mettere Prima uno E poi l'altra Tra Caldera e Verdaskin Ma non penso che lo facciano Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Ti stavo dicendo Che è best of three Ma su due mappe No è best of five No è best of three È best of five È best of three Ha scritto No allora 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 Il primo che arriva A tre Vince Ma non si chiama Best of three Non si chiama così Ma si chiama best of three No No Perché quando tu giochi Il best of three Praticamente Basta che uno dei due team Arriva a due Invece Invece stavolta Uno dei team Deveva tre Devi fare tre vittorie Bro è best of five È vero 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 Ma non solo Non è solo Su due mappe poi Sì, devi vincere Prima su Rebirt e poi su Fortu Skip Sì, sì, sì E in caso di pareggio Cioè se noi vinciamo Rebirt E loro vincono Fortu Skip In caso di pareggio mi pare che ha scritto Seconda chi ha fatto più kill, mi pare Sì, sì, ha scritto così Eh Facciamo Vediamo di fare Wager contro sti due, va Facciamo Wager contro sti due Ho sentito proprio spento Stasera Eh, la prossima volta Dategli una pasticchetta Sì, bollato Abbiamo puntato, fa tre vittorie qua Tre vittorie di là, tre vittorie qua, tre vittorie di là Ok, Wager Ah, e poi ha scritto che se per esempio moriamo tutti e quattro E non abbiamo fatto almeno la coppia Non ha fatto cinque kill Non vale Cioè bisogna rifare la partita E tra l'altro Non ci si può suicidare Eh, no Ma questo è buono però Almeno così Se stiamo in svantaggio di una o due kill Quelli non fanno la giocata La furbata Le suicidate È vero, è vero Eh, io per esempio Soldi lo faccio Però potresti fare un'altra cosa invece Potresti andare in contro a un tizio E far finta di sparare Che cazzo non so Io di solito ho scinto a contro Andiamo contro Che c'è lo shop C'è un bel po' E poi pubblica C'è scende bro Sì, sì, sì Entra in trattiva Questa da scrivere C'è una le scale C'è una le mie scale Chiamano che ti arriva dietro Chiamano Io te l'ho chiamato C'è una le scale Io ero buona Io ero buona Tranquillo Tranquillo Fatto fatto Ho matirato l'RPG addosso Bravo Mezza sali in altro Mezza sali in altro No, no, ci sono Ci sono brodi Sono bruciato Sono due, sono due sotto Sono due sotto di me Mettovelo, mettovelo Tranquillo Che va andato? Eccolo Uè, guadio Oddio 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 Mi stavo per far tornare Che è brodi Ho due brodi Dimmi bro No, ho lanciato male il loadout Ah Cazzo Kill, 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 vai con l'Olanda Viva l'Olanda, zi Zio, questo mi hai fatto Sotto canare Occhio che sono brodi Sono tutti camperati sugli spigoli Allora no Allora no Vieni, vieni brodi No, t'ho detto no, t'ho detto no Sì, t'ho detto no Camperati agli angoli Ti hai detto Ma no, ma no Uno si poteva fare Eh no, ma siamo Siamo sempre due Contro non si sa quanti Sopra camperati Ah no Viu Come ti permetti? Su Oh no Cheater, cheater Cheater L'hai confermato il tuo, eh? Mmhm Nice bro Sì, sì, l'ho fatto il mio, eh Sono tre però lì, eh Sì, sì, sì L'andò? Allora, mi diceva Ciao lupo, vorrei fare live su YouTube Con la PS4 Cosa mi consigli? È buono No, brodi, ma perché? Diciamo che Sì, dai Per iniziare Se potrebbe Volendo anche fa Però Diciamo che al momento Nessuno usa YouTube Non per le live Ma più che altro Per i video Diciamo, ecco Poi Comunque la live Dopo che la fai Dovrebbe rimanere salvata Che resta salvata sul canale YouTube Quello è più che altro Il bello Dai, dai Che Domenica Abbiamo un altro torneo Regà Cermi via Tutto quello che è nostro Ci dobbiamo rifare Bella Luca Sto tornando con le armi A Condor E vabbè Ma porca troia Quanto c'è C'è Sotto c'era ancora gente Se ho visto Eh dai Con queste mine Grande Guardate qua Dietri me Grande Gli altri L'avvingati Sotto 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 Il piano terra Di dove Della parte grassa Eh grassa Che è la parte grassa Guardate Volevo dire grossa Ma io mi dissocio Sono qua V Comunque Qua Non farmi ridere Dai lancio Lo priori Ma La parte grassa Ho mangiato troppo cioccolato Dopo torneo Frate Lasciami Lasciami Sillare Così A fare Da Sì Mi metto A fare Da Sì La Sì Sì È Stato Quello In una Grava Secondo Piano Non ho preso Nessuno Da Nuova Ho visto Sì Sono a terra Ci sono anch'io Altra casa Mi pare Sto salendo Sto salendo sotto Qua Sì Eh L'ho messo a terra Però Mi ha fatto l'altro Mi ha fatto uno Da Ha preso il lancio S'ha preso Tagli 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 lo scania me l'hanno rubato si buonasera matteo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Arrivo subito I'm good I'm good You are good bro I'm good bro I'm good bro You are very good bro You are good bro Sono amato Sono amato Sono amato I'm good bro Eh io sto andando a prendere il lancio eh Buonasera Ho Ho me niente No non c'ho soldi per riparare sto cavolo di cosa Sì Va beh ci mettere un po' ad arrivare Ed ecco qua Dicevo Buonasera Matteo Fanfo Eh l'ho già accesa Però l'ho già accesa Quella è da prendere Eh non va a terra Ma dov'è che sono Ma dov'è che sono Ma dov'è che sono Ado rubare un po' di kill Vai 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 Mi sto ridendo a te bro Occhio che sono lì Sono quattro tutti attaccati Fra eh Te lo dico Mi senti? Mmh Eh ma non capisco Dove secondo piano Oh qua 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 Oh qua qua Oh che arriva l'altro Eh non sono riuscito a give a fafra Ho lasciato pure una grata ma li ho attaccato addosso Toro too toro too Sottornando Oh Che cazzo Dove cazzo sono? No dai non può andare non a terra What? Sotto e ne va inizio Cazzo sta combinando Eh vabbè in 13 S'ho tornato io S'ho tornato io Sta venendo sul lancio questo? Carca miseria raga Ho arrivato sul lancio? Mamma lupo Lupo lancio poi Lupo Si lancia al lancio bro Ma devo rifare fra che culo ha avuto quello sotto Bro io potevo farne 5 linee ho preso 2 kill Su 5 Perché è arrivato un altro team Pensa a te Qui è buggato tutto fra Oggi c'è il movement di Di Pinocchio Movement bugiata Ah Come votevo prendere qualche kill Guarda lazza sono spariti tutti quando sono uscito io Guarda che ce n'hai il sui Ce n'hai il sui Dai entra dentro Ma perché non mi slide Sali Guarda guarda lì guarda lì guarda lì tu lupo Eh zio sto guardando altri C'è un fantasma? Eh vabbè ci penso io Vabbè lo faccio io ma questo qua sotto Questo l'ho fatto? Che cazzo è che lancia sto robo fra Eh da sopra ce n'abbiamo uno sopra penso Sì 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 No ma ha dato la kill di quello come sto a terra Mi sto muovendo con un bottone Sono sopra di me Io ne ho due bassi da me Riesci a pingarmi lì bro? Che tiro una mano No non li trovo più Eh che cazzo Arriva amico Uno a terra l'altro è Che cazzo Arrivo amico Eh se sta arrestando Pure l'autoressa c'ha Vabbè sono riuscito a confermare Eh no l'ha preso un altro Non so se l'hai preso tu eh Sì sì l'ho preso io Frate c'ho parlato di dati pesante bro Eh scusa stai in Olanda Ho la connessione un po' fatterella Che ti devo di Oh Easy Ebbene o male Sei arrivato sparando in ritardo Eh ma ce l'ho incivolata però zio Non mi ha messo dentro un colpo Questo è restato qua fra eh Adesso mi viene una free bella free kill Dipende Avrà girato dall'altra parte Eh ma l'ho sentito su stile Quasi Chi l'ha fatto? È stato vantato raga Poi non l'ho visto più Buonasera Gabriele Perchè tu stisci di fianco a me Vai via Sì quando mi ha fatto quello sotto Che si combina niente Ci stiamo allenando Vabbè prima abbiamo fatto un torneo Poi eh Buonasera Nino Prima abbiamo fatto un torneo E poi ci stiamo allenando un po' Per un torneo Che dobbiamo fare due contro due Domenica Eh vabbè Dai venghino venghino All good bro All good all good All good bro Oh bella 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 gg Bella, bella giocata Ok, stavo un attimo bevendo, regà Ma io perché c'ho ancora la campirata verso... Ma dici che è tornata meglio la Blixen della Marco? Ma zio, io la Blixen non l'ho mai mollata Eh, ma c'è stato un periodo in cui era meglio la Marco perché l'avevamo derrubata, eh In cui puzzava, dici? Sì, c'è stato, infatti stavano tutti con la Marco Mo' ho visto che stasera in torneo sono tornati tutti con la Blixen Pronto, pronto, pronto Ma che ha detto, fra, mica ha detto cose bannabili Ho mutato subito, cioè ho mutato un po' di ritardo Però ho sentito che ha iniziato a fare... Non c'ho capito niente, fortunatamente Sei tu rosta, eh? Eh, sì, sto cambiando secondo me Finghia, io sto iniziando a collassare Ho Biscotto che buffano, ho preso quei tre lì, mamma mia Che sei... Bella Luca Normali, io le vedo, le vedo normali Sì, questa era bot, stranamente Non capisco perché Ma niente di particolare, le mie sono più difficili Ma non so perché, ma... Io quando gioco da solo Cioè, sì, quando gioco da solo, io da solo, senza nessun italiano Fratele, le medie delle mie lobby dagli 1,20 agli 1,40 E quando giocchi insieme invece sono bot Quando gioco gli italiani invece, non dico... Alcune sono tryhard e altre sono come queste Zio non l'ho mai trovata, però, ti dico Non saprei, non saprei E da valutare, da valutare 402 di livello, zio sembra un tryhardone Guarda là, sono a 10, sotto 10 di win, bro Da un mio amico Sto a 7,88, lui sta a 7,98 Andiamo, andiamo, andiamo Anche se, mamma mia, fra stasera, non so perché, ma... Sono più stanco del solito C'ho gli occhi così, fra mi sento stanco Adesso All'acchi, fra... All'acchi, all'acchi, mi sento cotto Mi cotto a colpino, eh? Ma sarà che non sono abituato perché sto facendo un po' di nuovi esercizi, sai, per mantenermi in forma Eh, anche io, ho iniziato oggi, forse anche per quello che ero un po' sottofondo al torneo Però, in realtà, adesso mi sento bene No, io no Ho iniziato a riprenderlo anche io gli esercizi, fra No, per forza, fra No, io passo tutto, anche come entra lavoro, fra, non sarò qui seduto Eh, pure io sono abituato, però Sto a fare un po' di gambe Un po' di addominali, zio Un po' di riflessioni Bella, Ryan, grazie Un po' di braccia No, ma non è che mi fanno male gli occhi Senti quando senti la pesantezza sugli occhi perché sei stanco? Sì, 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 ho preso No, no, mi dicevi in chat, ciao Eh? Eh, il Marco non fa più lo stesso danno Bella, Gianluca, devo usare la Blix, zio Ma, non... Aspetta, però, zio, cioè Non lo so, se ti sei abituato tanto con la Marco, zio usa la Marco Eh, mi sono abituato, ma sto vedendo che non è più come la Blix, no, ma hanno fatto qualcosa Credi, lo noto subito L'H4, io purtroppo non mi sono mai fatto Mori, provo l'H4, vediamo che succede Se accappo tutti vuol dire che sti pezzi di fango, senza dire niente, hanno fatto qualcosa Ma è così Ecco come l'ho fatto in quelle 23 kg, raga La verità è che c'ha la Blixen cittata Andiamo a Control Tu, 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 baggio e... Quando mi cadi un mezzo, sì, sto invecchiando, però Sto invecchiando Non abbiamo fatto di male il torneo, però C'è la cosina, cioè, questi sono figuracce, capisci? And... oh, annaccia Oh, che ti salgono, fra Mi salgono, guarda lì, che è successo Oh, chi è il buon bambino? Alla, carami, ragazze per il collocato Oh, lascia, bro, lascia, mi un'arma, bro Dove è tutto questo trajardino? Oh, lascia, mi una piastra Che vuoi? La piastra? No È il mio testo Oh, ma quello dove si è infilato? Porco di quel porco L'ho lasciato one shot Comodino, fra Oh, no, bro, di... Addio, sei morto Ah No Ma, fra, sono in dieci, fra Sono in dieci Questa sta succedendo, raga Sono impazziti Ma che vuole, sta gente, bro Non mi ha fatto perdere manco la mitraglietta da terra Ma com'è possibile che hanno trovato ancora una mitraglietta contro il fra Io l'ho trovata La pinghi una, fra Guarda me Ok, l'ho trovata a posto Oh, la me, la me Dietro di me Sono due, però Sono tre, sono tre Ma che è successo? Ho provato a ridarti, bro Ti ho appena visto che arriva il testo E pure senza piastre, fra Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Ne spari uno Ne arrivano tre Oh, queste, vedi Adesso riconosco Questo è il lobby che gioco di quest'ordine C'è la marca, quel type Il type è pure carino Scusa la, la, il me Oh, mio Vado qua Ma vabbè, c'è ancora gente che si sta capendo niente sotto Raga ho fatto, ho fatto il camperone dei camperoni Il camperone dello sgamberone I need the armor Because there is Enemy here Niente Ho fatto la buttata I don't see nothing Fammi vedere Vedi sette metri Quello è possibile Oddio, sono tutti al lato destro Ah, ma sono in volo Sono in volo Bello, sono Tony Ciao, sono Tony Ciao, sono Tony C'è uno da Max Angioni Cinque metri sopra di noi Cinque metri sopra di noi Vedete dov'è? Questa partita proprio non la sto giocando Con un cuore Con un cuore Quella strada Niente Provo di scammare Oh, c'è un altro Tranquilo, amico E invece Ma cercate di scammarmi le stagioni Ma di che? C'è solo io Hai capito Con chi stai giocando Zio P Stavo male Addosso Bung Bung Schiaffi Destra, sinistra Si vola Poi con i francesi Soprattutto Comunque Quale lobby olandese? Frasi Ho capitato contro i francesi Sono le baguette Attenzione E' vero, eh Quei due erano francesi Mi risoce da questa cosa Che ti devi dissociare? Si stanno le baguette Che stanno sul tetto Vai, facciamo un push azzardato? Eh, no, vabbè No, frate Questo adesso Mamma mia Lo smontiamo Lo smontiamo Mo lo smonto E invece non lo smonto più Perché è scappato Me sa E' andato da qua Alla mia sinistra Ho fatto il giro io Ce l'hai Ce l'hai tutti i miei Sopra o sotto? Non ci sta qua? Non è possibile Farò che poi ne ha sparato Dalla Qua fuori, qua fuori Vabbè Mi sto rincoglionendo Ma dove sta scappando? Da tre orco Lo inseguiamo Dimmi che c'ha Non ce l'hai Fuori, fuori, fuori Fuori, fuori, fuori Fuori qua Fuori qua No, pure sopra Pure sopra Sopra le scale Le scale Sono senza piastre Uh, ma ha seguito dietro Ma ha seguito dietro Arrivo, Tony Eh Sì, ancora Oh, non mi chiamo Tony Stark Oh, è arrivato un altro Eh, vabbè Un po' di quel Discord Eh, vabbè, fratello Eh, vabbè No way No way Bro, you are the last one Bro Don't Don't push Quanto stavamo? Stavamo vincendo noi Però, mi sa Sì Se fosse Wager Stavamo vincendo noi Di due kill Hm? Lo sto killando Però E non killare Fa male killare Zio Ma riesco a mettere dentro Un cazzo di colpo In general Oh, ma Ma non me Ma vi sto dando una mano Eh, vabbè Oddio Però ho fatto una kill Ma Sai che sei morto, eh? Abbastanza Oh, finalmente Quello si è killato Scars Feli Cazzo Se non mi da Se non mi da le piastre Cioè io vorrei Una piastra Frate Non dico tre Me ne basta una Frate Allora, la devo comprare Cazzo Dobbiamo a kill col cecco A terra Il francese E ho salvato l'amico nostro Un verdino Ah, daglio Ah, daglio Grande, però Il problema Che sono tre Eh, beh Pure la grata Riuscito a tirarmi Dov'è che sono lì? Sopra Mi sa sopra Brodi Vai, uno a terra Brodi Treta Fatto Leida Easy Oh, ma ho preso sta cosa Ma quanto vado veloce Sì, ma che è? Cosa che hai preso? Oh, guarda qua Ma che è? Come è settata? Oh, è imbazzito Mi è imbazzito il personaggio Cos'è che hai preso? Ho preso una marco da terra Ma sono diventato velocissimo Fra, c'hai cheat sopra Fa vedere Cos'è che hai preso? Una marco Una marco da terra Ma è settata Che mi va velocissimo Il personaggio Pronto? Pronto? Ma c'è Fausto Con le bombole Dell'ossigeno? Io puoi scioccare Amical Brody Sono morto Oh No, chi l'ha visti? Hai visto dove sono? Alle torre Brody, non è cosa Madonna mia No, niente Fra Ho sbagliato il pick Andavi a usciare là dietro Fra C'è pure uno sulla torre Oh, no Lo potevo fare Lo potevo fare Eh, vabbè Ma Non c'entra Eh, no Erano di spalle Mi devono di spalle Due free kill Mi ha salito il muretto Quando non doveva salermi Il muretto Tutto qua E' mo? Eh, mo la vinci zio La clacci E' il cazzo Restami, restami Dai, fai Dai, fai Oh, what? I'm coming bro I'm coming Come here Come here Niente C'è, perché ne si è buttato Lo so solo Però vabbè Ci sono le armi sue Di quello che è morto qua C'è le armi sue Ma ora c'entri dietro? Non lo so Sì, sì, sì C'è gente C'è gente La terra La terra La terra No Ti viene a pia le armi Del francese qua Arrivo, arrivo Dov'è che l'hai uccisa? Dov'è, vai Dove stanno? Qui sulle scalette Possiamo restare Non ci sono più Non ci sono più Restane uno Sennò se ingazza Poi me lo devo sentire Salito sopra mi sa Ma che brutta è Sto H4 Ma il resto Sto impazzisci Oh, deve restare lui Sì È lui che c'ha i soldi Ah, non credo Guarda, stai su, stai su Stai su Oh, craccatissimo qua Ha tirato la bomba Sì, ma sono sotto Sono sotto Stanno passando dal tunnel Guarda me L'altro È velocissima sta Marco Non so come è settata Ma è velocissima Non ci credo Fratemi Si è messa la mia Fatta l'animazione Della maschera Ma io non ci credo Porca troia Attenzione Un lupo che la claccia Non lo so C'ha l'altezza Zio Non c'ho l'altezza Sta sopra di me Hai la bolla di sapone Zio Metto la bolla Dai, qua dietro Mi sta tossendo Mi sta tossendo Fai un pick Fai un pick Buono Eh, me l'ha pingato all'ultimo Che la claccia Che la claccia Mi zio Eh, vabbè Ma che ne sapevo io Che fatica Che fatica Signori Che fatica Mamma mia Se deve giocaa Si deve giocaa Le chiavi di casa Bella amici Buonasera Mamma mia Non esistono più Quei giochi dove Ti mettevi spaparanzato Così E giocavi Anche con i piedi Aiaiaia Sono tutto scassato Aiuto Allora Chi è che l'host Del most Qua Eh, chi è Rolanda Ah, ma non hai fatto GG Non l'hai fatto vedere Mo, eh Pezzo di fango L'ho fatto vedere Nella mia live Ho fatto start Tutto l'elicottero Tutti hanno visto Che fatto Ma, vaffamma mia Di me con meno danni Ricordiamolo, signori Allora Zio Ci sono pure due Del mio team Dai, li invito Poi al caso Noi comunque Facciamo un po' di 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 Wagers Anzi Facciamo magari Wager con loro Ci alleniamo Bye bye Eh Allora Mo Gli sto scrivendo Vieni siamo due Eccomi qua Aspettate Eccomi qua Di nuovo Allora Meglio le chiavi di casa Che il No No Però se potremmo giocare La pesca Secondo me Secondo me La pesca si può giocare Cioè giochiamo Poi se vingo Vingo la pesca Io Cioè dico io In vita Eh Dammi un attimo Non lo trovo Come devo fare Come devo fare Non lo trovo Buon figlio Eh Non me lo fa invitare Dal Aspettate Mi ha invitato lui Andiamo da lui Dai Ti invito Di là Uh Lobby tra gli anni Libby italiane Libby italiane Libby italiane Libby italiane Libby con le bestiemi Eccoci qua Ma va Prondo Quindi c'è ancora il lupo Prondo Cosa C'è pure questo amico mio Fra che avevo scritto Appena mi hai detto Cosa qualcuno Eh ma tu hai detto Siamo due Eh ho capito Il lupo e raga Mi ha scaricato Già vado a fare No 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 Sto chiedendo un attimo Che devi fa Scherzo bravo Tex Ci sei Cosa Sì 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 Eh dico Siete due Tre Ah no Io ho scritto a king Bro No eravamo due Niente Vabbè E caso ci becchiamo dopo Sono con Livius Ok Ciao ragazzi Vabbè niente A dopo Ciao brandon Eh no Invitami Invitami Fra Eh ma si toccano due Invece poi sono diventati tre Vabbè Invitami Arrivo Eh niente Eh niente Posto scammato Signori Posto scammato Ci hanno scammato il posto Dall'altro lato Allora Battiti la live Cos'è battiti la live? Aspetta Battiti la live Ti hanno ospitato Che è battiti la live? Sono dei pdf Hanno invitato Antonacci Che è 80 anni E non te con del mi Ah è un concerto No mi disso No aspetta Mi dissocio Mi dissocio Ma che roba era? Io non l'ho mai sentito Cioè so che ho capito Che è un concerto Però non l'avevo mai sentito Che evento è? Dove si tiene? Potresti giocare per la pesca Certo Basta che non si No no Io gioco la pesca di Livius Per la pesca degli altri Poi quello che succede Succede Poi non lo so quello che succede Come va? Non c'è male Sono un po' stanco stasera Un po' cotto Bella Andrea Buonasera Sono un po' stanchetto Infatti mi sa che Una o due partite vado Perché non me reggo Non me reggo proprio A da riposare Magari un po' prima Oggi Che ha scritto qua? Che è successo? Stacco un po' prima Magari stasera E poi ci ribecchiamo domani Magari ecco domani Se potrei 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 Esco Poi a parlare Dicevo Magari domani Ecco Se vado a dormire Prima stasera Si può provare Nel pomeriggio O ora di pranzo A tornare in live Oppure andiamo tutti A battiti live Lasciami stare Che lo stavo facendo io Sono ragazzi Ma che ne sai Ma che dobbiamo fare Con sti festival bar Al massimo vado al bar E faccio lì il festival Ma quando fai concerti Ma quando fai concerti Dopo lo inviti Ivano Chi è Ivano Come No raga Qualcuno della chat di lupo Può spiegare al lupo Chi è Ivano Chi è Ivano Qualcuno glielo può dire Raga dai Qualcuno Tra i due Tra i due Tra i due No dimmi Può darsi che lo conosco Però Depende a chi ti riferisce No 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 raga Fidati Fidati Lo scoprirei dalla chat Chi è Ivano Buonasera Pronto Pronto Buonasera Mattia Chi è sto Ivano Bro Dimmelo mo Eh ma non Non te lo posso Spiegare a parole Fra Spiega Non so come spiegarlo È un vocalist Ma No Ma chi è Ivano Zazzaroni Dove andiamo Vabbè che te lo dico A fa contro No Scusa bro Li sono caduti in ritardo Dove vuoi Dove vuoi No ormai è tardi Non è mai tardi Per regnare Zio È tardi No vabbè Mi hanno uscito Oh Ti ha fatto un tiktoker Ho fatto adesso Oh Che cazzo significa Non c'è credo Fra prima Mi ha tirato Una cosa addosso Penso La bazzucata Poi mi hanno seguito Per tre ore Qua io Buona sega Buona sega Adriano Buona sega Ancora lui Ancora lui Ti ha ucciso Basta Basta Con sto tiktok Ah oggi Proposto Mi ha risposto Una radio Signore Ho mandato un po' Di email alle radio Mi ha risposto Radio Bruno Bro Eh però Ha detto Purtroppo Nelle loro Playlist Radiofoniche Tell me Non andava Non era il loro Genere Non era il loro Genere Eh ma non sai com'è Qua in Italia Siamo un po' Retrati Sì Eh ci sono veramente Poche poche radio Italiane Che passano la musica Il genere Che faccio io È un genere Più 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 Che va all'estero Però a meno ha risposto Seri lupo Bruno Ti accettavo No vedi solo No è che Oh Mannaggia Mannaggia Discord Zia E prendi sto biscotti Ma io come faccio A concentrarmi Buono Ehi l'hai fatto Dicevo No l'unica cosa Cioè dicevo Ci sono due Tre radio Che passano Con la musica La La di Biza Radio 105 E È un'altra Che non mi ricordo È forse Radio DJ Un gasio Tramonde Un gasco Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Il quadro No vabbè Ma andiamo via Da qua Fra Non c'è più nessuno un grande mi fa sempre ridere mannaggia tutto sono apriso zio si ma si è disturbato non ti vedo sono disturbato è quello cosa si rappresentarsi io sono un po disturbato arriva amico ti salverò da ancora lui il tiktoker cosa spari sul città dai fatevi so di torno a cercare un tic tocco la morte lo insulto ottimo facebook viene chiamato da tiktok comunque ivano libero mi scrivono in chat vanno libero se posso sapere che si va chiesto ivano bro ivano è il detto alla sicurezza che fa le facce a quelli vanno ma lui il primo che deve stare per forza a fianco a me sopra il palco ecco questo volevo sentire fra come ti senti dopo questa vittoria stiamo perdendo la wager credo no fra che sta partita abbiamo poche kill fra come stanno facendo più giocando al 20 per cento zio ho sparato a uno per tre anni dove è finito porco di quel io basta c'è farmi da dietro sì 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 ancora il team del tiktoker li facciamo il tiktoker abbiffetemi il tiktoker no non ci credo mi ha fatto con gli ultimi eh li hanno killati adesso non me l'hanno confermato allora 38 che cosa 38 chili un armadio faceva palestra nella pancia aveva montato un po di pesi prendevi il mass gainer quando 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 arrivava il cibo lui non lo mangiava nello stomaco ci faceva i bicipiti no chi me l'ha fatto è uno dei fettori basta basta andate a casa a mangiarvi le patatine sul divano guardi vai tu a blix non ci credo mi ha scappato guardi come il caso il muretto porca di quella puczazza puczetta eh sì fra ma che non avevo dibattito organizzammo le vendite più vopi a bianco e e glielo no 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 ho letto or no no son tornato io voglio andare a San Masara basta uso la blix in zio non lo so mi killano sempre con la blix in ultimamente la Marco perde il serpentino mannaggia da quando hanno inventato sta cazzata sta cagata comunque confermo che la blix in è più forte della Marco adesso ho vinto un fight qua allora ciao la Marco a mio avevo la marca qua il fight non si vinceva one shot one shot a no dotto per me piace un nemico lì davanti perché sono perdito dati il serpente regà il serpente quando hanno messo la cosa del serpente la specialità del serpente gli spari 40 colpi non vanno a terra perché c'hanno il serpente eh no stavo con la primaria che culo no che ho fatto ma non volevo farlo cosa? niente mi ha preso il cavo mi ha preso il? il cavo il cavo del boccione io stavo cercando di luttare a terra ma ha preso il cavo vabbè GG a lui non mi ha fatto prendere manco le cose qua lebron james non è andato stavolta lebron james ma è un amico o è un nemico quello? oh no c'è sta un altro dentro oh me l'ha pingato no me l'ha pingato comunque dicevo eh non bene non bene non bene non bene ieri era andato bene però ieri eravamo pure un altro team eravamo il team fisso con cui gioco sempre io non ci credo che mi fanno morire frate eh può darsi guarda eh dici che ti fanno questi giocavano a pallavoro con la maschera stavano facendo il mercato nero lì zio il mercato nero eh capoccioni sta a fare i capoccioni anche adesso la ah 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 ma però mi fanno male le gambe eh tu ridi eh zio ho fatto un allenamento dopo vi dico una cosa quando finisci la partita guarda il secondo me si ammazza da delle risate wow dopo vi dico come si chiama il tizio dalla quale sto prendendo ispirazione e mi sto allenando eh vabbè ma io apro tiktok ma io non posso vedere così però apro tiktok per vedere un'altra cosa guarda chi cazzo no mi dico guarda chi cazzo bella quest'arma fra mi piace non l'ho visto torca di miseria ecco che lo stavo dicendo allora però io mi sto allenando mi sto allenando sei sempre tu l'osso riccardo io mi sto allenando tramite gilbert nana nana drogba mi sto allenando tramite con nana drogba non puoi capire mi sono scritto in privato zii lui ogni volta a ora di pranzo fai allenamenti io li faccio insieme a lui con nana drogba mi ha fatto spaccare le gambe no ma io ve lo devo far sentire parlare perché voi non capite voi non capite cioè io mi sono sciattato dalle risate zio quando mi ha mi ha mandato il vocale dov'è dov'è eccolo qua aspetta che aveva detto qua aspetta che ho mandato due foto la prima foto è uno schiere d'allenamento se ci guardi bene ci verrà che c'è 9 posti ogni posti e guarda un video d'allenamento ogni video lavoro una parte del nostro corpo tutto questo 9 video se tu vuoi dentro questo profilo sotto drogba nana drogba 11 questo profilo è il primo profilo che loro mi hanno bloccato vai dentro questo profilo vai dentro questo profilo cerchi da registrare tutto questo 9 video che c'è dentro e cerchi dello fare massimo 5 volte alla settimana 5 volte alla settimana ci dovete allenare con questo nuovo video e prendi una giornata della settimana con un vai allenamento vai e mi fai 10 km da corsetto corsetto senza forzare 10 km tutte le settimane 10 km da corsetta 10 km da corsetta no signore a me mi fa a me mi fa spaccare quando parla a me mi fa spaccare quando parla mi ha mandato sto messaggio wow sto piangendo lo giuro sto piangendo no mi sa si che forse è di origini francesi credo eh credo che sia di origini francesi a vero mi ha smesso c'ho c'ha detto l'ho mutato l'ho mutato l'ho mutato è così qua ci affidiamo ai francesi per prestazioni fisiche perchè se si ma lui è di no però perchè 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 lui è di è di colore e e e e no cioè nel senso c'ha c'ha le prestazioni fisiche capito è francese ma è anche di quindi c'ha c'ha la spinta buonasera immortale buonasera e quindi mi deve far uscire spaccato nooo mi dissocio da francesco pirozzi mi aveva pingato questo io lo seguo pure me l'ho convinto fossi tu oddio 3 per 3 per 3 per che hai fatto il che stavi giocando il clash oh no porca la p***nazze che c***o dai ho fatto una tripla e tu vuoi abbottare si ho fatto una tripla oh e chi è? vabbè ma non si sentono gli spaccimma dei passi dietro chi ha pubblicato un video? io ho pubblicato il video sì sì era lei era lei alla fine sì sì solo che il problema è che è successo è che io sono andato a vedere dopo che era lei perchè poi in chat mi hanno scritto vedi che hai beccato violet ma lei si è straincazzata e ti vuole ti vuole bloccare ho detto cosa? e quindi sono andato a vedere dopo quando ho finito la live sono andato a vedere però forse non ha capito cioè non so perché pure i moderatori hanno detto è lui è lui ci sta guardando cioè lei addirittura andato a vedere se stavo guardando la live su twitch azi ma noi eravamo qua in live eravamo eravamo qua in live eravamo più di 100 di noi ci stavamo allenando perchè teniamo il torneo il giorno dopo io ho un pezzo di video che mi sono salvato mio dalla live dove dico frati ha killato violet perchè violet aveva killato lui del mio team ma ti ha killato violet fa lui no non è lei non penso non può essere ci ho bufra il nome sembra che è il suo poi dopo l'ho killata io e faccio guarda che è lei sicuro poi dopo andiamo a vedere gli faccio secondo me è lei lei si credeva che stessimo streaming per altro ma dopo tutto il bene qua stiamo a lavorare venga a si ripetere da te basta così ti tocca ma erano 4 ma erano 4 ma erano 4 mannaggia le lobby in olanda Piro dice che sono ma perchè è andato a morire? Ma perché sono dei pezzi di discoteca questi qua, è andato non bene fra stasera, quello di ieri è andato bene Io mi dissocio, Piero dice che se non era il sista verso i napoletani, lo può dirgli qualcosa? Ma va, prova a cercare sto video fra chi cazzo l'ha pubblicato sto video bro Sì Va a cercare sto video che vado là, spacco tutto, entro, spacco, butto tramonte in mezzo che così fa danni e me ne vengo via No aspetta, stiamo ancora parlando del fatto che è successo con Violet bro Io ho i video salvati del VOD dove c'è lei che ammazzano del mio team, che poi lei ha detto che è la seconda partita, ma noi in una partita l'abbiamo beccata Una partita l'abbiamo beccata, almeno io mi ricordo che è stata solo quella lì dove lei si è incazzata, io in quella mi ricordo che l'ho beccata Perché io, lei killa uno, killa Koga del mio team e faccio U, ma io leggo il nome, faccio I'm Violet, fa U ma ha killato I'm Violet È lei E lui fa pure no, non è lei, faccio Bufra, il nome è quello però Vabbè continuiamo a fare la nostra partita, ci facciamo i cazzi nostri Fin quando io faccio Divine, ci sono tre su Prison, andiamo a pushare se attendo Saliamo su Prison, usciamo Vedi che lo banno Però challenge 15 kill personale più win Abbiamo la challenge, abbiamo la challenge Abbiamo la challenge 15 kill personale più win, proviamo, vai vai vai, due possibilità Di Alessandro, grande Alessandro, vai vai vai, bomba Per te un po' di banane se vuoi, te le faccio mandare da Nanà Nicao Io non lo so Illegale, Piro, illegale Cioè non lo so Oh, control, te prego, control Cioè, pesce da control, fa triple su triple Usa la tattica della nave, io uso la tattica di Nanà Drogba Gli do la baguetta, no Mi so Eh, se era a busce Oh Ma che è successo? No, frate, ha fatto solo l'hedge a questo Anzi, io vorrei capire cosa è successo qua Ma mi stanno a guardare la live, ma fatemi capire Non ci credo Io, io, no, io non ci credo Sperate, ma sono capi, erati fermi, non entrare in quella porta Non entrare in quella porta, mi sembra un film horror Oh, frate, ma te l'ho detto Eh, te l'ho detto, frate, te l'ho detto Cioè, sembrava un... Sembra... Sembra... No, dai, perde la prima, frate, c'è l'ultima possibilità, non ci credo Vabbè, ma perdere così, col film horror dentro Revert, dentro Condro Non aprire quella porta Attenzione, anch'io c'ho una challenge Bro Vaffabaglio 25 kg con i cazzotti 10 sub Sì, vabbè, digli che fai prima da... a vendere il c***o Devo fare la clip Giovanni, fai la clip Non aprire quella porta, frate, non aprire quella porta Ma perché, che è successo? Minchia, brodi Mannaggia che non mi ascoltate Neanche nelle pubbliche mi ascoltate Vabbè, ma... Ma io non ho aperto la porta, era già aperta Io mi sono rimasto là Ha aperto lui la porta Mamma mia Tratto... tratto dal film, togli la sicura alla mitraglia Vabbè, ci... oh, frate, dai, dai, c'ho la challenge Non mi morire, fra Frate, io... Eh, frate, il biscotto che buff Frate, ma se entrano nella porta... No, a parte ci sono 20 persone dentro Come fanno a stare? Ciao, Alberto Sì, oltre... sia lo streamer che produttore musicale Sbarra artista Sbarra porn star No Non c'è di polizio No, ci manca... No, manca che apro F, però mi socio Oh, grazie al foro, benvenuto Con la mollica ossezza Musica profonda Nuovo film di Ennio Anni Come... come mi piace ignorare il chat Allora, dai, dai, facciamo questa sfida Ultima voxibili Nooo, da misuri Vediamo quante altre persone mi devono... Guarda, io muoio solo perché mi fanno il... Ecco, mi sono inPC Nooo Oh... Ah no... Però... Oh... 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 oh uno uno c'estos Siamo sono Ancora di tocco, bro Ma cosa? Quello l'avevo messo da terra Dai, io devo fare 15 kill Ah già, la miseria Let's go, bro No, non è tornato Adesso siamo in pubblico e c'ho una challenge La nuova season è, bro Dovrebbe uscire fino agosto, mi sa, inizio settembre Ma c'era una nuova season, scusami Sì, l'ultima Eh, c'è uno Era un pazzo, zio Col bazooka fra voleva bazookarmi Ti bazooko tutto, ti bazooko Eh, ma hanno anche il lato l'oro Dai, dai, facciamo il lancio Te prego, te prego, prima che mangarmi Eh, brodi Eh, brodi Tieni, vai, vai Eh, che ci faccio? Eh, per quello che... Vai a fare il kill, brodi Hanno sparato da dietro Buono, cotto, cotto L'elemosica Yeah Oh Deghi, te biva Mare, bro Me l'ha dato, finalmente Non me lo prendete Let's go In the middle way In the middle west When... When I was young Che c'è? Eh, devo arrivare a 15 Poi, ma fa pure la vittoria, però, eh Vabbè, la vittoria, it's not a problem, bro Eh, oh, cacchio We are the jail C'è successo? Guarda chi lo ha assaluto Assurdo Sto morendo pure io, bro Brodi Brodi Sto morto pure io No, no, no Mannaggia Mannaggia tutto Mannaggia Sto a 10, zio Ma, panico Panico e delirio su No, frate Mi rinasce subito tu Perché questi li vedo Ma, proprio male, male, male Eh, lo so Non dobbiamo morire, te Eh, frate Allora, lasciami andare al 2 Un secondo Eh, se mi fanno alle spalle Porco tuo Ok, io ci sono, però Minchia Dopo 10 kill Sono morto Come lo picco che c'è il muro davanti Ehi, madossi Pronto? Se stanno a fare dentro prison Sì, non so se andare Io pensavo che vado Brodi, vai, vai, dai Sono con te Sono con te Dai, vai, vai Vai, devi far kill Vai Vai, zio Vai, vai, vai Non sento niente Ah, in fondo, in fondo, in fondo Ho capito Ma, c'è, 5 kill si fanno Dobbiamo vincere la partita Dobbiamo morire Che questi si fanno ammazzare Sti due, zio Cominciamo a fare Le 5 kill Poi possiamo vincere la partita Prendere la partita La parte più noiosa Un po' di blocca Oh, serpentina Oh, serpentina Oh, fenomeno, fenomeno È il più forte del mondo, fra Ecco qua L'ho detto Non dobbiamo morire E te Si è morto io e lui Non dobbiamo morire e te Si è morto e te Male stasera, franceghi Ieri era andato bene Abbiamo vinto stasera No Te prego, resta qua Non ti muovi E diventa proprio il pavimento E con i brividi All'unlock tool E gioco con un bottone Ma com'è possibile? Ah, sì Stiamo giocando con uno Che ha usato la look De Trull Sto contento Oh, è qua È atterrato È atterrato dove? Oh Comunque quelli di prison Sono belli cattivi E vanno tolti dalla lobby Eh, come cazzo facciamo? No, chissà Chi mi ha gioccio la porta dietro Stori Oh, ero io Bastardo La porta si chiude sempre Fra, ma sono io fuori Mi chiudi la porta Eh, sì Ecco me entro Eh, zio Le fatti Che cazzo di me Non è stato Leva, leva Io so sparare Tu non sai sparare Togliti Oh, mi distorcio Da questo bullismo Anche le bui bullizzati Ai teamers Ragazzi Ma questa c'è la look Tu, madre E nico Io vi fuci Quelli forti Zio di Wipe Al massimo Secondo me Prendiamo il biscottone Vai tra la realtà Ci sono Non mi hanno visto Non mi hanno visto Ah, che sono ancora sul te Sono no Ah, sono Ah, ho visto L'ho visto Ah, ho già Sono morto Sono morto, bravo Dai Ah, invece Te uno Te l'ho messo a terra Però Principa All'acqua È morto Bravo Craccato Si, craccato Te lo dichi là C'era stato il mio C'era stato il mio Sono rotto Di quel disco Ma questo Fra Non lo so se è legit Ah, fra Ma questo Gitta Bruto C'è uno Che citta Zio Uno di loro Citta Eh, te l'ho detto Funziona Se faccio così Si scarica L'incazzatura Che vorrei Spaccare qualcosa Dai Nella partita Della challenge C'è il cheat Che becca tutto in testa Che sono stanchissimo Mi sto muovendo Come un po' Però è bot È bot Quello lì Cheat Ma è bottazzo Eh Però non mi ricordo il nome Quello va bloccato E segnalato Comunque Eh Il problema rimane Come lo uccidiamo Può essere bot Quanto vuole Ma se È bot Se ti metti dietro A uno spottino Lui non ti riesce a prendere Lo killi Zio È bot Mi ha visto Zio Hanno avuto luck Mi sa anche E ripeto Tanto lui Convinto Che ti killa Perché c'ha i cheat Prende il biscotto Non è il biscotto Lo prendo io No Fra è scarso Sì È scarso proprio Credimi Col cheat che c'ha lui Se potrebbe spara Trenta bombe Sta partita Invece È bot proprio Ha paura a scendere Fra Dobbiamo vincere Di posizione Allora Ma poi Sta facendo Pure paura Di essere sgamato Sta facendo finta Di non usarli Amma giocava vicini Comunque Stavamo vicini Mi arrivano Mi arrivano Sopra 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 Gli altri due Sono sopra Mi è arrivato Oh No Non ti copri Mi devono far morire Sono matto No No Eh zio Come ti copro Non c'ho le armi Arrivata Teammates Teammates Come Un altro qua Un altro qua Bravo bravo Braga Anche il altro qua Guarda me Guarda me Luke vieni Sono 6 Sono 6 Mi killano Non mi incazzo Te lo giuro Non ti chiedono Ti carico io Ti carico io Non è che pure gli amici nostri cittano Sì Zio non hai fatto 15 kill Ti sto a 11 16 persone in vita Madonna mia Non mettere l'ansia Non so chi l'ha presa Dai pucia quelli Sotto sotto Sì dove sei tu Dai uno fatto L'altro è dentro Dietro Arriva dietro Livius L'altro Si è arrestato il mio Si è arrestato il mio Non c'è credito Non c'è credito Non mi ha dato la kill Non mi ha dato la kill Arrivo Arrivo La fai la fai la fai tranquilla Ci sei ci sei bro Ma come faccio ziii Che mi servono 4 kill Easy easy Le fai le fai Devono rientrare questi eh Ma rientrano chi è che è finito il rientro Ah è finito il rientro Ma da ora che è finito il rientro Però in teoria c'è stanno Le devo fare tutte io praticamente Dai dai sai sai Io gli sparo e tu li ammazzo ok Vado a pushare male così tu li tradi Sono in fondissimo bro Eh invece no Fa qua E questo è il cheater Questo è il cheater Oh mio dio È il team del cheater Si deve rifare zio Si deve rifare Allora È il team del cheater È il team del cheater È il team del cheater Niente riproviamo Io vado a letto Dai 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 Fanno un'altra dai L'ultima 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 Peccato Wanna go Wanna go Wanna walk and walk and walk and walk and walk and walk Ah però non vale col cheater Oh aspetta ma va bloccato quello Se no ce lo becchiamo un'altra volta Come si chiama Eh non mi ricordo come si chiama Meno io Uno si chiamava Dudy L'amico Cioè quel Dudy era pulito Era l'amico Allo qui Però nel caso K' Vabbè facciamo uno così Io blocco Dudy così tanto è lui che gioca con quelli Michelangelo Ma vaffanmagno Alessandro Come Ma come Eh bro Siamo in partita Facciamo Anzi no Aspetta 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 Ma quanti siete a donare Ma sei da solo Fra se esci C'è sta pure Tex Aspetta Esci un attimo Esci un attimo Aspetta aspetta Facciamo Modo invito Modo invito C'è Tex Ma quindi posso andare adesso No 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 Perché Ah è solo è solo No no Fatte l'ultima Interzettia La lupo si chiamava Gustavo l'altro scitere Gustavo Gustavo Oh sbagliato a leggere Giustago Giustago No ma tipo Bucky Buonasera Ma cosa devo fare Ritorno Fortune skips No fare No lo so Fortune skips No il team suo era Genzega qua Ma lopo Era Genzega Ma lo blocco insieme A quello là È sempre molto chiaro Non lo so Ma lopo Bro è bello Madre Quando è che abbiamo la Wager Domenica Perché è così lontano Eh siamo usciti così Dove A domenica E poi quando Rigiochiamo E poi rigiochiamo Bro Quando finiscono tutti Passiamo Passiamo Comunque Alessandro Fai un'altra sfida Con 500 Andate Le devo far perdere Se stelle Buon lavoro Adriano Ti devo far perdere Se stelle Mi piace Scendere Oh Ucciderò Ucciderò Questo sta Con la doppia Marco in mano Che ha combinato In volo Minchina Che so Mido A sonno Se lupo Non mi fa andare a letto Tra due secondi Giro che Non so cosa faccio Che fai? Che fai? Fai la notturna? Ma va Che notturna Facciamo after Ho cegato oggi L'esercizio Ho il corpo No Vabbè L'ultimissima Mi ha fatto 20 kill Più 20 kill Più win Ha raddoppiato Però Mille stelle Vai 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 Ci provo Come va va O la va O la spacca No Devo fare una puzzetta 25 kill Con scudo RPG È Abbortita Quindi Mi 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 Carri tu Lo posto che Si spera Dipende bro La di prima Se ne facevano tante Cazzo Forse ci arrivavo pure a 20 Se non c'era quel cheat Guarda che lo fa rialzare Ecco cosa Mi serve l'arma Devo fare kill Non è che lo faccio rialzare Stavo prendendo l'arma Che scherzo brody E' da Braga Raga c'è più che sarà Noo Te lo faccio rialzare Noo se sei vicino adesso mi sei vicino però mi devi chiamare un primo aiuto niente le 500 pure michele sa giunge madonna ragazzi dai 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 quanto sono due no che c'è già lenti o mio dio ma non è passato una solo questo Dio ma quanta gente è arrivata qua? Dove si è messo? Frate è businessman No Tex si era messo in un posto Io ero quello Eri tu? La lampa lo dici? Sì sì è vero Oh no vado il panico Oh oh Ah B? B e C Cosa volevi essere? Dai devo killarmi quel team di là Non riesco sono tutti fermi No vabbè raga Non prenderlo da altro po' Perché? Io l'ho già preso Per me per me Posso dire che goto un po'? No raga mi ha fatto wallbang Sono safe Ma da dove ti sta sparando? Ma che ne so Sono safe Sono safe Sta bruciando Sta bruciando E' impazzito? Dai sto ritardando le kill bro Per colpa di questi Ma infatti vai a pushare l'altra parte La nave stanno troppo camperati Me ne vado me ne vado Però l'ho messo la terra Dai vado a fare un po' di kill Dai Boh non sto capendo Sì mi sparano da tutt'altra parte Oh guarda qua No vabbè vabbè Che schifo di gioco Non ha senso Non ha senso Però sono morto dentro la casa col bombardamento Ah ok Quello è un bug Va Va Ma questi sono tutti sopra Ma doveva far cosa mi chiedo io Cioè Non far niente fra Oh ma guarda qua Non ero pronto Ma cosa fai? Ma che cosa fai? E' da lì che sono camperati in 14 Dentro una casetta piccola Com'è la situa contro Brutta No Eh dai Dai Scusa ho due deal Questa è una schifezza Questa è lunge o qua Oh 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 Ti messe Scusa ho due deal Di basso Sono tutti a contro La sparanza Oh amore Sì, sta succedendo di tutto No ma grazie, grazie per l'aiuto Guarda questo col quad qua dentro Non lo so Non lo so Guarda guarda Non ce la faccio, non ce la faccio più C'è ancora gente, c'è ancora gente No vabbè RPG da sopra Rfg da sopra Entra, entra, entra Vai via, vai via che devo chiudere la porta Ma c'è il bomber Guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda, ora ha lo col quad Guarda dentro, guarda dentro Brody Un altro, un altro Brody E' impazzito Ma cosa sta succedendo? Ah no 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 Questo con lo scudo Meno male A chi ho salvato Chi gli stava facendo la mossa finale Stavolta Regà è un manicomio Stavolta 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 Guarda 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 E' morto da solo E' morto da solo Manco la gimme Brody ma Brody mi spiega il cacchio Aiuto Gli è l'esplosione Qua 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 Brody Sono morto Oh no 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 Non c'è più che si è appena chiusa la segna Eh rientro 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 Dago ho fatto 20 kill Buono Hai fatto più per me Dai sono triste Potevo fare 20.000 bombe Guarda questa Eh niente Alla che ferita qua Allora Uè buonasera Federico Buonasera Bella Paolo Eh com'è com'è E' tosta E' tosta Farà è tosta Non sono mezzo stanco Quanto è? Tre ore e mezza Che stiamo a giocare No questa Sì è impossibile Mamma mia che macello c'è Sì sì Mi ha chiesto Livius Contoni Di giocare con loro Sono andato a giocare con loro Regà Un partita stranissima Non ci ho capito nulla io Cioè ve lo giuro Non lo so che Che gli è preso Io non so cosa Per il casino Di contro Lacrime Di gioia Lacrime Di gioia No Non la può mai Viscere È impossibile Alessandro È impossibile Grazie per le 100 strelle Per il casino Oddio Per il casino Oddio Che cazzo sto vedendo La piastra La piastra No no Ti è salito sopra Non lo sentire È salito dalla scanetta Ma l'ultimo Peccato Guarda lì L'hai messo pure a terra Col bomba L'hai fatti col bomba Bello i tiktoker Ragazzi Io non ce l'ho visto Sono contro Ma ti vanno a parte 15 solo contro Guarda vada Le tartarube ninja Sono rimaste Prodi Abuse Aizir R Power Rangers Ma che lobby Ragazzi Non ha senso sta lobby In sta lobby Mi sento appagato E posso andare a letto Mi spiace Addio amici Che cosa ho visto là Fra quello Continuavo a fare A destra A destra e sinistra A destra e sinistra Continuavo a fare avanti Indiravanti dietro là Nella tenda Non sapeva che doveva fa Amico io vado a letto Ci sta Ci sta Io l'ultima Mi sa che faccio Faccio ultima Dai dai Come lo ha trovato a tutti Eh fai l'ultima E vado pure Ciao Dai fai l'ultima Mi avevi detto L'ultima L'ultima Questa è l'ultima Questa è l'ultima Ma perché avevamo la challenge Questa è l'ultima Adesso Faccio 30 bombe Faccio 30 bombe Io faccio 30 30 bbbbs Faccio 30 bombe Vabbè E facciamo St'ultima Partita Ma che sei l'ultima C'è Tony C'è Tony Montana Quella Quel Tour cards Alzerine Che mi ha fatto L'ho già beccato In qualche altra Lobby Eh Eh lo so Lo so Quella partita Lì Era Era la giusta Era partito Bene Era la lobby In cui Ci saremmo Riuscite Peccato Peccato Il giocatore Ingiustamente uccisi Dal cittadino Gunner Verrai presto Mutato Ma chi è? Ma non è italiano Gunner? Azzà Cia Faffanculo Vai Mi ho mutato Buonasera Gianluca Detto anche G***o Di ferro Ecco così Così si chiama Non è Non è colpa mia Oh lupo Se non mi fai almeno 20 bombe Sto game Oh Io Appena finiscono Prima di sping Ora Ok Controli Ehm Nemmo Controli Ok Qu'è 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 non lo so uno per il momento non ci credo arrivate uno con l'elicottero a schiacciarmi con un pollo mi sa che stanno facendo guarda guarda quanto coro, non posso dire che coro? oh oh un shot bella le vis arriva un secondo che se ne è uno entrando sotto aspetta dovresti resti vabbè arriva guarda lei oh è da te no Brody no ma che è successo? e io sono lontano fra, so attende perché non c'è stava l'arma senza che la strada ah ma non c'era uno dietro no tutti morti erano altri ok tirare l'attacco fra aspetta aspetta fammi entra dentro no eh pieno fra ragazzi attenzione no ma ho sparato l'amico da dietro sennò lo facevo morto pure tu niente è stato coraggioso da aiutarti con la pistola però no non dovevi venire con la pistola ormai ero morto io ma se non c'era l'amico dietro me l'ero fatto sto morto da eroe secondo me sei morto da c di socio no fammi il bim quando devi venire è bellissimo dai la facciamo domani una bella challenge dai la facciamo domani uh che è successo? la fammo domani dai che comunque adesso tardi sono un po' stanco oh lo però è vero è vero con la challenge mi ho piacere un po' di più però adesso sono un po' po' cotto ma non ce la faccio più proprio però domani li facciamo magari all'orario un pochino prima ma però ma come cazzo possibile vabbè lasciali stare una granata vescola eh ma qualcuno l'ha tirata da qua no qualcuno l'ha tirata magari anche da si vabbè l'ha tirata contro la contro non ce l'ha tirata qua non puoi mai sapere dove ti tirare le granate vescola che schifo di armi oh gunner give me the money please eh l'ho mutato guarda guarda che sei un tonno gunner ma almeno chiamatelo cioè stava sopra i soldi niente quello se ne va non conta niente guarda la 11.000 tir laccia la miseria cioè ci servono i soldi sui per fare il lancio quello è sparito io non lo faccio uscire dalla stanza come fai a non far uscire dalla stanza gunner ci sei? ma non è italiano non è che ti capisci non lo faccio uscire dalla stanza e l'ha preso l'ha sequestrato non lo faccio uscire dalla stanza una pianeta la lì eh niente l'avete fatto voi minchia lo stavo seguendo io eh sul tetto di briso c'è gente c'è sta ancora gente qualcuno a control lo possiamo fare noi lo possiamo fare con i nostri tre soldi oh che laggata mi ha dato posso dire il dare posso dire il dare eh guadio è successo qualcosa eh guadio no non c'è il cartellino dove 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 eh sul tetto ne ho fatti due ma di dove sette di cosa però di eh prison prison se erano in bordo dove sono andati non c'era ancora uno a contro Una lì sopra Lì sopra Ho fatto questo Dall'altro dov'è Oddio ho scrivato il contenitore Se fosse un pro player Però pingava qua non c'è più Ma è andato È impossibile che ha girato Ha quittato forse No ha quittato Beh In teoria stava uno nella casetta Se non vado errato ha pingato Lupo Lupo Ha una casetta piccola Vai ti copro io Se esci ti copro io Vai E stanno a nave gli altri Non c'è più Non c'è più casetta piccola Oddio sono sopra Due sopra qua No Nave 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 Non ci voglio crede Aterrato nave E l'altri stanno sotto Quanti è andato ancora Uno 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 Mi ha fatto l'altro L'altro è arrivato ora non c'era Ok uno uno Sulla d'alta ragazzi Sulla d'alta ha detto control Attenzione eh No si è buttato non c'è più è libero No porco il ciuto è una piastra in meno Ragazzi mi buscata la nave La terra uno Lupo Questo è arrivato È arrivato in volo fra L'ho craccato niente Se sopravvissuto No mi dissocio Ragazzi ti devo buscare Fatti 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 Queste della nave non li ho tolti Massa va Minchia che c'è voluto Panico Dove sei? Dove sei? Eh ma gli stanno entrando a control Sto solo coprendo Sto solo coprendo Sto solo coprendo Sto stanno entrando a control Uh c'è buttato ora da prison Ah Nooo Che bello lancio bro Wa su Il tetto control è libero ? Non c'è Non lo so, non credo. Ok, stanno arrivando della torre. Ehi! Eh, non lo posso restare, sto botto dei gunner. Eh, sono one shot, non posso fare niente. Guarda, lì si è restato quello mio, guarda. Peccato. Ma è una diceria, è una diceria, non hanno confermato nulla. Figlia, se sono cotto. Non hanno confermato già lui, eh. Al momento, da quello che so io, non è confermato nulla, dicono. Magari la rimettessero. Ah. Aia. Un'altra. 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 Non c'è redo Ma davvero? No no io torno lì fra se rimettono Verdask torno lì tutta la vita Oh Un po' lombardi Eh non potevi fare nulla fra i recontro 4 gli usi uno stanzio Quell'altro che continua a pingamo taci sua Amici Va bene No pure io pure io veramente sono arrivato alla fine anch'io Bella Vigil Sono arrivato pure io alla fine voglio veramente non ho più le forze Però ragazzi sono proprio accotto a puntino Eh pure io pure io proprio Bella Lupus Bella Lupus Bella Lupus Buonanotte No veramente Non li vedo più frate non ci sto a capire più niente Oh ha staccato senza vabbè faccio bella Tex buonanotte Ciao Allora fatevi una cosa Peccato mancava l'ultima vittoria ad arrivare alle 7 e 90 quanto stiamo? Ah cazzo se me lo dicevi ci provavo di più No 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 vabbè la faccio domani Alla fine ero da solo contro 4 No non potevi fa niente non potevi fa nulla Bella Lupus Buonanotte Buonanotte bro Buonanotte Niente ragazzi vado a dormire regà dai Domani domani che è? Cioè mercoledì vabbè no nessun torneo niente bla 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 Quindi andiamo a fare un po' di vittorie Andiamo a fare un po' di vittorie in pubblica domani Daglie Ci becchiamo domani ragazzi Buonanotte Luca buonanotte a tutti Un bacione Andate a dormire riposatevi Domani vediamo se ci sono magari Si potrebbe fare anche una sessione Dipende che ora mi sveglio però Un pranzo pomeriggio Due orette vediamo Vediamo un pochettino Buonanotte Maurizio Buonanotte a tutti 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 Grazie a tutti